Voglio ringraziare innanzitutto il collega amico Antonio Colombi per aver proposto l'iniziativa e Giuseppina Bianchini, la consigliera, per averla resa possibile dal punto di vista logistico. Poi voglio ringraziare anche tutti i prestigiosi relatori che oggi interverranno per aiutarci a ripercorrere questo sisma così importante avvenuto nel Lazio. Noi nel Lazio non siamo tanto abituati a parlare dei sismi, nel vulcanico siamo più abituati appunto a parlare di quelli dell'Appennino. Invece sappiamo bene, come diceva Giuseppina, quanto è importante la memoria di questi eventi perché la natura è abitudinaria, tende a ripercorrere sempre le stesse cose, a ripetere sempre le stesse cose. Quindi in questo modo noi dagli eventi passati appunto possiamo imparare sia a comprendere gli eventi ma anche a gestirli nel migliore dei modi. Infatti oggi parleremo non solo dei meccanismi che hanno innescato il sisma e degli effetti sul territorio che ha avuto a Tuscania 50 anni fa, ma anche della gestione dell'emergenza. Quindi passo rapidamente la parola a Carmelo Tulumello che è il direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile. Grazie. Grazie di nuovo, buongiorno a tutti. Io ringrazio voi per questa iniziativa e per avermi invitato a un brevissimo intervento di saluto. Ci tengo però particolarmente a farlo perché riprendo le parole di Giuseppina Bianchini quando ha detto che la memoria degli eventi contribuisce a costruire la cultura del rischio. E per noi è fondamentale perché contribuisce a costruire la cultura della prevenzione e della gestione dell'emergenza. Mi insegnate che il rischio sismico, al di là come dire del fatto di poter conoscere quali sono le zone che presentano rischio sismico, sfugge più di qualunque altra tipologia di rischio ad una logica di previsione. Quindi non possiamo far altro come sistema di protezione civile che lavorare il più possibile sul tema della prevenzione e su quello della gestione dell'emergenza. Purtroppo laddove come dire anche la prevenzione in qualche modo non ci consenta di attenuare o comunque eliminare ovviamente del tutto il rischio per le persone, per i beni e per gli animali. Da questo punto di vista mi dispiace non poter partecipare a tutto il seminario in quanto come Antonio sa bene oggi abbiamo anche proprio sul tema della pianificazione un passaggio importante con il Dipartimento proprio sulla direttiva della pianificazione diversi livelli territoriali quindi sono impegnato in quell'incontro però insomma mi sarebbe molto piaciuto ma comunque la presenza di Antonio garantisce quell'osmosi di conoscenza che in qualche modo noi cerchiamo sempre comunque di realizzare tra di noi proprio perché noi stiamo lavorando proprio in quest'ottica. Grossi investimenti sono stati fatti in questi anni dalla Regione Lazio rispetto al tema della prevenzione. Lo abbiamo fatto subito dopo il terremoto del 2016 attraverso un finanziamento che è stato dato a tutti i comuni per l'aggiornamento e l'adeguamento dei piani di emergenza comunale. Lo abbiamo fatto attraverso degli incontri con le amministrazioni comunali proprio sul nuovo codice di protezione civile e su quelli che sono gli oneri che discendono a carico delle amministrazioni soprattutto in termini di prevenzione di informazione della popolazione quindi di diffusione della cultura di prevenzione del rischio. Ma lo stiamo facendo anche al nostro interno attraverso un'operazione di capillarizzazione della struttura logistica dell'agenzia proprio perché come dicevo il rischio sismico sfugge ad una previsione che consente quantomeno di essere immediatamente reattivi e quindi come dire proprio in quest'ottica ci stiamo organizzando anche logisticamente per essere più capillari sul territorio e garantire un'attività di gestione dell'emergenza che sia la più rapida ed efficace possibile. Quindi mi è piaciuta appunto quell'espressione di Giuseppina Bianchini proprio perché la memoria in ogni ambito è la radice sulla base della quale costruire sistemi solidi, culture solide e che siano come dire l'impronta sulla base della quale affermare un vero percorso di crescita e di miglioramento. Quindi grazie per questa iniziativa, grazie per il supporto che è costantemente il vostro ordine ma anche i NGV con il quale insomma grazie anche ad Antonio abbiamo ormai un rapporto costante e consolidato. ci aiutate a crescere in termini di supporti decisionali per definire e migliorare quelle che sono le nostre strategie appunto in termini di prevenzione e gestione dell'emergenza. Quindi grazie e buon lavoro. Grazie direttore e allora passo la parola a Antonio che così conduce l'evento. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie, lo faccio anche io, soprattutto a tutti i relatori, i miei amici che hanno accettato e ci permettono di fare questo intervento. Allora innanzitutto do una comunicazione di servizio, credo che il sindaco si stia per collegare perché mi aveva richiesto via mail il link, quindi gliel'abbiamo mandato, quindi credo che prima o poi si collegherà. Allora, come funziona? Come avete visto nel programma c'è solamente una piccola inversione, parlerà prima il vezzio Galanti che poi ha un impegno improrogabile e poi ci sarà l'intervento, la seconda lezione magistrale di Carlo Doglioni e poi inizieremo con tutti i relatori. Le due elezioni magistrali avranno 30 minuti, mentre i nostri interventi, gli interventi dei relatori avranno 20 minuti più 5 minuti per eventuali domande che io, Giuseppino e Marco raccoglieremo tramite le vostre chat. Ho una, ecco il sindaco, quindi se attivano l'audio, in basso a sinistra dovrebbe attivare l'audio. Buongiorno, sono Stefania Nicolosi, il sindaco, sono il presidente del consiglio, il sindaco Fabio Bartolacci arriva subito che è in una riunione. Lo chiamo così, un attimino così, gli sistemo tutto. Sì, ecco, sta arrivando il sindaco. Grazie. Buongiorno, scusate, scusate veramente. Sindaco, non si preoccupa. Abbiamo avuto un'inconveniente proprio questa mattina con il nostro sistema. Abbiamo dovuto chiamare il tecnico e ci contavo in maniera, diciamo, particolare questa mattina ad essere qui. Quindi, quando volete, faccio quel saluto di cui era programmato e poi continuate. Antonio, mi fai dare a me il benvenuto al sindaco. Io sono il presidente dell'ordine di geologi del Lazio. Sindaco, la volevo ringraziare per la sua partecipazione oggi, visto che immagino che sarà una giornata impegnata per lei, impegnativa per lei per questa ricorrenza. Sì, sì, molto impegnativa. Ma poi vi dirò, se volete, ecco, io ringrazio a voi che avete, a 50 anni dal terremoto, pensato proprio di ricordare anche molti strani, dal punto di vista geologico, come geologico, come comunque sia, diciamo, la causa, che è proprio il tremolio della terra che ha provocato la distinzione della nostra città. 50 anni sono tanti, ma in realtà sono pochi, perché da oggi ci saranno le manifestazioni con la presentazione presso le scuole di Tuscania, di un libro a cura di un'associazione dei ragazzi delle scuole, proprio 50 anni dal terremoto. percorre un po' tutti gli eventi, tutta la tragedia con foto, rappresentazioni, ricordi e quanto altro. E mi farò carico, se mi mandate gli indirizzi, di mandarvelo, anche a suggellare che questa giornata di oggi, iniziativa presa da voi, comunque Tuscania la condivide e ne è contenta. Io vi ringrazio adesso veramente per aver pensato a questa iniziativa e ci volevo essere proprio in maniera particolare, soprattutto per dare un saluto, soprattutto per dirvi che questa, diciamo, ricorrenza tragica di Tuscania, che domani è in maniera particolare il 6, che era di sabato, e quindi domani mattina faremo una serie di iniziative che concluderanno con la messa e successivamente alle 7.09 erano spente tutte le luci di Tuscania e inizieranno a suonare le campane della città, le tante chieste suoneranno in Tuscania e ci saranno le sirene che suoneranno così come noi all'epoca ascoltammo nella notte arrivare da tutta Italia. Cosa devo dire? Io avevo 10 anni, lo dico, lo sto dicendo, io ho vissuto il terremoto con, diciamo, l'incoscienza di un ragazzino di 10 anni, che non aveva la contezza di cos'era quella tragedia, ma aveva, diciamo, un occhio di, una novità, una novità che ti permetteva comunque di vedere la città in una maniera diversa. I primi giorni le tende, poi le baracche, dopodiché un centro storico che è stato per anni chiuso, con il diritto di poterci entrare. E questo è quello che ho vissuto io. Poi Tuscania, cosa devo dire altro? Devo dire che Tuscania è un esempio, è un esempio di ricostruzione, a dimostrazione che quando la pubblica amministrazione è performante, i problemi si affrontano e si risolvono. Chi conosce Tuscania, io mi auguro che molti di voi la conoscono, vi inviterei a venirla a visitare. Tuscania è una città ricostruita che in pochi anni, dal 71, già negli anni 80, al 90% della città era stata già ricostruita. E questo dobbiamo dire grazie soprattutto alla regione, che attraverso il genio civile, che era un strumento molto importante dell'epoca, è riuscita a finanziare per tanti anni questa ricostruzione, che ha riportato una città con grande, diciamo, orgoglio alle sue vestigia monumentali architettoniche, perché in realtà nella ricostruzione sono state tolte molte superfetazioni, nonostante la contrarietà della cittadinanza. Io qui vorrei ricordare l'ingegnere Tessa Guzza, responsabile all'epoca del genio civile per contro la regione Lazio, che affrontò questa ricostruzione con, diciamo, una visione che ha portato a una ricostruzione di una città tra le più belle. Lasciatemi il mio campanellismo da sindaco. Noi abbiamo proprio a Tessa Guzza, un anno fa, dedicato una lapide commemorativa, proprio perché non ho tante ricostruite stazioni. Lo sapete benissimo, il mio nome di terremoto, c'è il momento nel quale tutti comunque si stringono attorno alla tragedia, poi iniziano le contestazioni, un po' perché va rilento alla ricostruzione, un po' perché la gente comunque vuole sempre molto di più di quello che ci si può permettere come pubblica amministrazione. Ma a Tessa Guzza andava riconosciuta questa sua capacità di avere una visione romantica per quello che riguarda Tuscania. Tuscania sta, diciamo, rinascendo, infatti il nostro slogan è rinascita. Tuscania è stata ricostruita dal punto di vista, diciamo, strutturale. Già negli anni 80 si parlava, Tuscania è ricostruita, bisogna farla rivivere. E quindi c'erano anche gli incentivi per chi veniva ad abitare o chi veniva ad ammettere attività commerciali dentro il centro storico. Ma per tanti anni questo non è successo, perché ormai si era, diciamo, locurato quel tessuto sociale che vedeva prima del 71 il cuore battente della città all'interno del centro storico. Ma però nel tempo siamo riusciti, e io dico grazie ai tanti sindaci e amministratori, dal 71 oggi ce ne sono sosteguiti moltissimi, che hanno tutti comunque avuto questo progetto nella testa, questo di far diventare Tuscania una città turistica. E oggi possiamo dire, prima del Covid, eravamo già pronti adesso. In questi ultimi anni abbiamo visto che la città si è ripopolata. Si è ripopolata anche di personaggi che hanno scelto Tuscania come residenza, avendola poi magari frequentata occasionalmente, e essendosi poi innamorati di questa bellezza, tranquillità, la qualità della vita. Noi abbiamo attività turistica, alberchiere, che sono cresciute in questi anni, ristoranti. Noi abbiamo una città che veramente, di cui andiamo orgogliosi, che si sta proiettando verso, diciamo, una nuova cultura ed economia. Il Covid ci ha purtroppo fermato, ma ha fermato le grandi città come Venezia, come Roma, quindi è normale che si ferma anche una piccola città come Tuscania, ma siamo pronti perché da domani, quindi dal cinquantesimo, diciamo, anniversario del terremoto, proprio la nostra parola d'utile è rinascita, e tutto questo anno 2021 sarà, diciamo, proiettato attraverso proprio un confronto tra il terremoto che ci ha distrutto 50 anni fa e cosa vogliamo fare per il nostro futuro. Stanno partecipando tutte le associazioni, cioè, oltre ad avere ricostruito le case, in questi ultimi anni si è ricostruito pure quel tessuto sociale che era venuto meno. La tragedia del 71 poi fu un colpo di spugna per tanti artigiani, per tanti, diciamo, piccoli negozi. Tuscania delle baracche, delle tendopoli, non era pure Tuscania del centro storico, delle vecchiette sedute sulla sedia a filare, a pulire i fagioli, a fare quelle cose quotidiane che comunque sia in un attimo sono venuto meno. E in quel contesto anche il tessuto sociale venne meno, quindi anche le costruzioni poi post-terremoto, il quartiere Gesta, 350 appartamenti, diciamo, che furono un'immediata risorsa per i cittadini, ma che comunque costruiti in un contesto, diciamo, sociale diverso, hanno contribuito nel tempo a far perdere quella, diciamo, Tuscania che noi conoscevamo. Oggi Tuscania è ritornata, di questo ne sono curioso perché hanno contribuito tutti, e ha contribuito pure negli ultimi sei anni la mia amministrazione. Quindi vado a concludere, se no poi vi tolgo tanto tempo a quello che è, diciamo, lo studio scientifico che oggi voi affronterete. Noi oggi siamo contenti perché veramente, in questo modo, capiamo che non solo ce la ricordiamo noi di Tuscania, ma ce la ricordano anche tecnici e esperti, che questa zona è una zona sismica. E vorrei fare solo una cosa, noi stiamo facendo una battaglia anche per quello che riguarda gli insediamenti dei siti, diciamo, nucleari o comunque su questo territorio. E mi risulta che questo territorio è considerato non sismico. Io vorrei, se è possibile, da questo giorno di studio, se potrei avere un contributo da esperti come voi, per dare magari un sostegno o una, diciamo, risposta chiara, tecnica, se in realtà, nonostante il terremoto del 1971, questo territorio dell'Altatuccia dell'Itruria è un territorio sismico o meno. E questa la faccio come domanda e anche come preghiera, perché questo ci servirà entro il 3 di marzo per fare le osservazioni alla Sodine, proprio per sostenere che non è possibile che 37 vittime del 1971 Tuscania non sia un territorio sismico. Grazie della vostra pazienza e disponibilità anche di avermi permesso, nonostante l'equivovo tecnico, di poter dire queste poche cose e le dico dal cuore e credo di rappresentare il pensiero di tutta la città di Tuscania. Grazie. Grazie sindaco, grazie a lei. Va bene, allora procediamo con gli interventi, Antonio. Microfono. Ecco, allora, riprendiamo, credo che il sindaco in tutti gli interventi avrà di sicuro, riuscirà a capire molte cose. Innanzitutto io volevo perdere proprio solo un minuto per fare un omaggio a un nostro carissimo collega, Gigi Friello, che purtroppo è venuto a mancare poche settimane fa. Era un amico, un professionista, un geologo, oltretutto partito dalla paleontologia, si era specializzato in geofisica, in geofisica applicata proprio per quello che riguarda la microzonazione sismica e la risposta sismica, e quindi questo è un piccolo omaggio che credo che tutti noi apprezziamo, perché Gigi era veramente amato da tutti quanti. Quindi è solamente un ricordo dovuto, secondo me, a un personaggio particolare nel mondo della geologia del Lazio. Adesso ho finito e do la parola a Elvezio Calanti. Volevo solamente fare una piccola presentazione. Elvezio è un geologo, ha lavorato nel Dipartimento Nazionale della Protezione Civile per quasi vent'anni, ha preso parte oltretutto alle maggiori emergenze verificate nel nostro paese dal 66, quindi dall'Unione di Firenze fino ad oggi, e oltretutto ha rappresentato la protezione civile italiana in ambito europeo, nelle Nazioni Unite, in grosse emergenze a carattere mondiale. Ha collaborato con il Ministro Zamberletti all'attivazione proprio del Dipartimento di Protezione Civile e nell'ultimi 30 anni ha coordinato numerosi centri operativi. inoltre è stato responsabile proprio della sala operativa del Dipartimento e nell'ottobre del 2002 è stato direttore generale del Servizio Sismico Nazionale. Ha ideato e promosso numerosi corsi di formazione tra i quali quelli di Saster Manager che purtroppo adesso non si fanno più, ha redatto le linee guida per la pianificazione di emergenza attraverso la diffusione del metodo Augustus e inserendo per la prima volta proprio il Centro Operativo Comunale come nucleo importante proprio di tutta la risposta all'emergenza. Attualmente è professore del Corso di Protezione Civile e Legislazione Ambientale presso il Dipartimento di Scienze della Terra all'Università di Firenze. Non vi nego che è un grande piacere, un grande onore averlo qui con noi e gli cedo la parola con molto piacere. Ti dico solamente il vezzo, come a tutti quanti, che quando mancano tre minuti entrerò con l'audio e tirerò tre minuti. Ok? Benissimo. Buongiorno, grazie a tutti e grazie anche di questa possibilità di ritrovarci e ritrovarci a parlare di cose che da anni tutti quanti a vario titolo seguiamo. Mi piace anche rammentare e quindi ringrazio proprio tutti quanti sul problema della memoria che mi date la possibilità di sviluppare perché la memoria, come sappiamo, è una realtà importante da mantenere perché specialmente la prevenzione sismica si basa sulla memoria che il nuovo testo unico dice appunto della prevenzione non strutturale e strutturale. Per la sismica si sa quanto vale, ma i miei colleghi ne parleranno del catalogo, parleranno di tante cose importantissime a questo riguardo e li ringrazio tutti. Per quanto mi riguarda, vorrei portare un piccolo contributo a questa mia esperienza, ma soprattutto al terremoto di Tuscania perché il terremoto di Tuscania nell'analisi, diciamo così, generale dell'evoluzione della protezione civile non è quei terremoti che rimangono, come è stato già accennato, nella pulgata così collettiva della memoria. Se ci ricordiamo il 1908, ci ricordiamo il 15, ci ricordiamo ovviamente l'Um e l'Irpinia e ovviamente prima il Friuli. Ecco, però la Tuscania dice ma perché non si ricorda? Non perché non è stata importante quella qualità, diciamo, della città dal punto di vista dei beni culturali, ma è stato importante anche per, è iniziato lì un processo che poi dopo è stato adottato pienamente in Friuli. Comunque, volevo dire che è un terremoto interessante da un punto di vista della memoria per la città di Tuscania. Dopo questo periodo è bene rammentare alcune cose. Bene, noi sappiamo, sappiamo proprio per la memoria che è stata coltivata anche scientificamente in questi anni col catalogo, sappiamo che questo nostro paese, la nostra patria, nell'inizio del Novecento, all'inizio del Novecento, i primi anni del 1900, ha avuto più di 130.000 morti nei primi 20 anni a causa degli eventi sistemici, più una prima guerra mondiale, nel 15. Questo dato la dice lunga come appunto la ciclicità dei terremoti possono anche avere una frequenza che può mettere in ginocchio un paese. Voi pensate, vent'anni, 130.000 morti e tutti i terremoti che sono, il 1908, ora non li sto a elencare tutti, se volete ve li elenco, ma insomma il terremoto di Nicastro, di Ferrazzano, delle 85.000 morti del terremoto di Reggio Calabria, poi Avezzano, 32.000 morti, e poi il terremoto del Mugello che dette vita, diciamo il terremoto, alla prima legge di soccorso di protezione civile. Insomma, nel 1919 noi abbiamo in Italia, dopo l'Unità d'Italia, una legge che parla solo di soccorsi in emergenza. Ben lungi in questa norma di parlare di prevenzione, questa la dice lunga, con quel che è la nostra, diciamo così, memoria legata anche all'attività legislativa. Quindi noi, però, nel 1919 con la legge, 1915 a volte si confonde il numero della legge con l'anno, però è così, dopo il terremoto, dopo questa sequenza incredibile di eventi nei primi vent'anni del novecento, si decide nel 1919 di fare una legge che dice è sprento soccorso in occasione di terremoti. Si pone l'attenzione solo in terremoti con tutto quello, per tutto quello che era successo. Poi ci vuole la crollo della diga del gleno nel ventitré per fare una legge sempre come quella, l'impianto era quella del diciannove, in cui però nel ventisei, 1926, si cambia il titolo e si dice disposizioni, diciamo, per i servizi di frontosoccorso di disastri tellurici e ci aggiungono di altra natura. Quindi che vuol dire si erano accorti che questo paese aveva emergenze e problemi sul territorio non solo legati al terremoto ma alluvio nel frane vulcanico, vulcanico, che all'epoca non c'era nemmeno un servizio vulcanico nazionale ma c'erano due grandi centri importantissimi per la ricerca scientifica sul vulcanismo in Italia. Parlo dell'Istituto Internazionale di Vulcanologia di Catania e ovviamente Napoli Colubbio Esuviano però ecco detto questo questa evoluzione diciamo così della normativa ti porta poi ad avere sempre per i soccorsi un assetto diciamo legato all'emergenza. Ecco attenzione ora perché qui è importante Tuscania perché nel 1970 nel 1970 viene radicalmente cambiato l'assetto normativo perché dalla legge che ho citato adesso degli anni 20 in cui non era sbagliato guardate la direzione dei servizi di intervento era legata al genio civile al Ministero dei Lavori Pubblici è nel 1970 che si passa perché lì ci fu il decentramento poi dei geni civili alle regioni eccetera eccetera rifatta la legge del 1970 in questo caso la 996 dettò le norme del soccorso ed assistenza alla popolazione colpite da calamità in capo al Ministero dell'Interno quindi si passa da come dire una struttura tecnica del soccorso del Ministero dei Lavori Pubblici genio civile perché era l'unica struttura tecnica poi declinata sul territorio provincia per provincia il genio civile il legislatore di allora non credendo molto alle autonomie locali volle riservarsi una struttura tecnica nel posto del genio civile che era appunto il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che faceva capo in qualche modo ancora in qualche modo faceva capo al Ministero dell'Interno quindi la legge del 70 è la prima legge che passa il coordinamento dei soccorsi dal Ministero dei Lavori Pubblici al Ministero dell'Interno eccoci che arriviamo al terremoto di Toscana ho rammento sempre per la memoria che questa prima legge del 70 è figlia di importanti emergenze parlo dell'alluvione di 66 della mia città di Firenze Venezia e qui si arrabbiano anche un po' per il discorso della memoria dimenticata delle città di questa per esempio Grosseto fu una città duramente colpita e si adabbiano molto quando si parla dell'alluvione di 66 Grosseto dice ah beh si è venuto anche a Grosseto ecco insomma fu un alluvione di 66 e poi 1968 attenzione anche qui che riguarda Tuscania la novità delle scelte di Tuscania nel 68 Belice o Belice si dice pare si dice Belice anziché Belice il terremoto appunto di quelle zone perché e perché queste poi generano appunto questa riforma della legge del 70 Tuscania arriva proprio l'anno dopo questo inserimento della nuova guardate questa è una legge quattro che prevedeva dei regolamenti d'attuazione che non vennero fatti immediatamente ahimè come al solito ma furono fatti undici anni dopo dopo il terremoto dell'ottanta con undici anni di ritardo il regolamento d'attuazione la legge c'era fortunatamente e fu fatta dietro la furiosa diciamo impettiva del presidente della Repubblica Pertini al ritorno dalla catastrofe diciamo così organizzativa ma anche diciamo degli effetti sul territorio del terremoto dell'ottanta dell'ottanta quindi Toscania è un terremoto che è l'anno dopo perché voi pensate che la legge è del dicembre del settanta Toscania immediatamente arriva a questo terremoto ma perché è importante Toscania perché dopo questa legge è il primo terremoto in cui questa nuova norma si tende a governare ma soprattutto Toscania è importante per due aspetti che ahimè non entrano nella memoria collettiva ma è bene rammentare il primo fatto di Toscania è che qui si sceglie forse gioco forza per il peso dei beni culturali però si sceglie di ricostruire dove si è perso cioè noi venivamo da una scelta devastante del Belice dove si dislocò letteralmente i paesi dalla loro ubicazione si ricostruirono nuove diciamo urbanizzazioni e questo comportò un veramente uno sconquasso diciamo da un punto di vista culturale urbanistico eccetera però fu scelto proprio questa la dislocazione in Toscania invece no fu scelto ovviamente la dico ovviamente per l'attività per l'assetto urbanistico che la città aveva come ha detto il sindaco come è stato rammentato questo grande valore di bene culturale però si scelse di ricostruire in realtà a Toscania si applica quel principio che è diventato famoso in Friuli e quindi noi quando si parla di ricostruzione in loco si parla dei Friuli ma è nato in Toscania cioè quando siamo di fronte a un dato di un crollo di un certo tipo di terremoto noi in Toscania si comincia a parlare di quell'approccio di scomposizione dell'edificio non del crollo di macerie irrecuperabili in Benzone il famoso duomo è proprio questa cultura della scomposizione si ricompone si numerano le pietre e si rifà dov'è e com'era questa è la prima scelta che anche in Toscania si comincia a fare ripeto dopo il Belice dove fu fatto l'opposto la seconda scelta importante che Toscania va rammentata è l'approccio ai beni culturali anche qui la memoria collettiva non riporta a questo terremoto la riporta ovviamente prima della legge del 70 Firenze Venezia lì è successo con l'alluvione perdite inenarrabili dal punto di vista culturale ma per il terremoto la memoria che noi abbiamo a disposizione è il terremoto dell'Umbria delle Marche del 97 dove lì in maniera organica la protezione civile si assume l'onere di pensare ma anche di organizzare i beni culturali in emergenza e per la ricostruzione questo in Toscania viene in qualche modo fatto è già stato accennato viene fatto in modo organico con i mezzi che c'erano fortunatamente la legge del 70 prevedeva un tipo di organizzazione con il commissario straordinario prevedeva per la prima volta anche per la prima volta la legge del 70 prevedeva diciamo la citazione del concetto di protezione civile che prima nelle norme non c'erano quindi questo concetto di protezione civile queste scelte fatte con la legge del 70 riuscirono in qualche modo a fare quelle due importanti scelte appunto la ricostruzione in loco e ricostruire beni culturali in un certo modo considerando la scomposizione dell'edificio e non il crollo irrecuperabile e poi soprattutto in questa legge si abbia modo di fare della protezione civile quella approccio orizzontale che non era solo il soccorso alla popolazione ma era anche per interessarsi delle attività connesse al territorio in questo caso all'urbanistica che appunto sono i beni culturali quindi se noi dovessimo ricostruire nella nostra memoria collettiva della protezione civile nazionale Tuscania porta due sassolini importantissimi da cui nasce poi tutto e si sviluppa l'attività dei beni culturali e la cultura del ricostruire dove si è perduto senza tralasciando per sempre l'attività della dislocazione totale dei paesi colpiti questo poi sui centri storici avrà un peso enorme per quanto riguarda i tempi per la ricostruzione attenzione su questo perché anche questo va valutato una cosa è un terremoto che colpisce una parte di una città che non ha un valore dei beni culturali intesi come edifici chiese e allora lì è anche più facile come dire ricostruire quando si tratta di ricostruire una città d'arte si allungano i tempi si allungano diciamo così le realizzazioni per riportare allo splendore di prima queste città e questo patrimonio culturale questo tipo di ricostruzione diciamo noi italiani anche a livello internazionale veramente siamo dei riferimenti importantissimi non solo per il restauro ma anche per la ricostruzione degli edifici di interesse storico e quindi tutto questo patrimonio di conoscenza ancora noi lo conserviamo e lo cerchiamo sempre di divulgare e di quindi i beni culturali Tuscania e ricostruire dove si è perso sono valori che bisogna sempre mantenere nella nostra cultura della memoria ripeto che l'evoluzione poi della norma di protezione civile questo aspetto è stato ribadito ovviamente con la legge 225 del 92 ma anche con il testo unico ultimamente in cui all'articolo 2 si parla proprio di come prevenzione non strutturale quindi si parla proprio di prevenzione non strutturale quindi è tutta attività culturale legata alla memoria alla riscoperta dell'amore ai comportamenti da adottare con i cittadini e per i cittadini quindi una sorta di autodifesa diciamo così permanente di cittadinanza attiva qui la legge è molto chiara e quindi diciamo che noi abbiamo tracce importantissime su cui attingere per questa attività che ripeto il testo unico del 2018 ha ripreso fortemente appunto dividendo l'attività di prevenzione sia strutturale che non strutturale ovviamente il testo unico riprende anche le attività di protezione civile di previsione prevenzione emergenza e ripristino e qui c'è un altro aspetto nuovo che con la pandemia abbiamo visto che la protezione civile non si interessa più direttamente di attività legate all'aspetto sanitario per esempio ma si interessa solo di organizzare in prima persona le attività legate alla sismica al rischio idraulico idrogeologico maremoti e tutte le attività mentre tutta l'attività legata a altri aspetti tipo la sanità il rischio diciamo industriale e altro è concorrente la protezione civile a quelle diciamo ministerie a quelle attività che in prima persona se ne interessano infatti con la pandemia non c'è la commissione grandi rischi che è detta le condizioni scientifiche ma è questo comitato tecnico appunto nominato ovviamente non dalla protezione civile ma dal ministero della salute ecco per dire che il cambiamento normativo c'è stato e però ha mantenuto saldo questi diciamo principi fondamentali storici che è bene come questa occasione sempre rammentare non per dire l'ho detto prima io o l'ho fatto prima io il pericolo della memoria è che poi non solo venga citato magari anziché friuli per la ricostruzione in Toscana sì è importante anche però capire bene come si è evoluta tutta questa attività però è importante che questa memoria rimanga sempre attiva e la legge il testo unico del 2018 ne tiene conto al capo quinto in cui prevede fortemente la partecipazione dei cittadini nelle attività di protezione civile per la prima volta si pensa ai cittadini come cittadinanza attiva e non come i soggetti che delegano allo Stato la propria sicurezza in maniera errata quando dice io pago le tasse di cittadini sullo Stato che a Toscana o in altri comuni si interessa della mia no è il contrario bisogna avere la consapevolezza dove viviamo sul territorio abbiamo dobbiamo avere la consapevolezza dell'edificio dove viviamo e dove lavoriamo e la consapevolezza di chi sono le autorità di riferimento per organizzare quelle attività di previsione prevenzione emergenza in cui il primo livello dell'autorità di riferimento è il sindaco col testo unico e chiudo il rammento che il secondo livello le autorità prima era una sola con la legge 225 appunto il sindaco col testo unico le autorità adesso sono tre il sindaco il presidente della giunta regionale il presidente del consiglio dei ministri dove da sempre è incardinato il dipartimento della protezione civile altro elemento e chiudo c'è ci sono delle vulgate che ahimè distorcono anche il funzionamento dell'attività di protezione civile per esempio quella di dire sono arrivati i vigili del fuoco sono arrivati i carabinieri è arrivata la protezione civile confondendo l'arrivo dell'organizzazione di volontariato con la protezione la protezione civile non è un corpo non c'è la caserma della protezione civile è un coordinamento a quattro livelli comunale provinciale regionale e nazionale quindi questo è l'altra ahimè vulgata è che a un certo punto con la dichiarazione dello stato d'emergenza anziché mantenere il principio di sussediarietà tra questi quattro livelli di collaborazione si pensa che con la dichiarazione del stato d'emergenza il sistema si trasforma in un sistema piramidale dove c'è uno solo al comando non è assolutamente vero non è vero se c'è una nomina ad un commissario straordinario esso non sostituisce mai né il presidente della regione né le autorità provinciali né il comune quindi anche queste diciamo così livelli di responsabilità è sempre bene rammentarle nella cultura appunto della attività di protezione civile non più diciamo agli addetti ai lavori ma per esempio la popolazione che vive in un'area a rischio è bene che si abbia contezza delle attività che essa deve fare a prescindere da quello che è l'attività dello stato micidiale è pensare di delegare la propria sicurezza alle attività dello stato no la nostra sicurezza ce la vediamo e insieme alle autorità di protezione civile in questo caso il comune o chi per esso si parla di che cosa fare come e dove io ho finito e vi ringrazio di questa possibilità di questa come dire corsa nella storia del nostro paese uno storico mi lincerebbe per quello me l'ho detta ma insomma noi addetti ai lavori spero così che ci siamo capiti vi ringrazio ringrazio anche della possibilità di avermi fatto intervenire prima anche Carlo Doglione so che è stato molto gentile nei miei riguardi grazie Antonio grazie Presidente grazie a tutti grazie il vezzo ho sentito con attenzione soprattutto per noi che lavoriamo in protezione civile tutte le differenzazioni che hai fatto sai quanto quanto è difficile poi farlo passare soprattutto anche agli amministratori il fatto che qualunque cosa che possa succedere dal gatto sul tetto al terremoto è la protezione civile che deve comunque occuparsene anche la ricostruzione tutti pensano che sia la protezione civile che se ne deve occupare quando invece è chiaro che il compito della protezione civile è assistenza alla popolazione questo è il primo nostro compito per far riuscire a tornare a una vita più normale possibile il prima possibile della popolazione quindi io ti ringrazio oltretutto non hai impiegato tutto il tuo il tuo tempo quindi diciamo che sei stato bravo e credo che sia stato veramente importante proprio partire dal terremoto di di Tuscania per capire come si è evoluta poi la protezione civile e io credo lo sappiamo chi ci lavora che è un fiore all'occhiello veramente a livello internazionale sia per come è strutturata in maniera diversa rispetto alle altri paesi ma anche per quello che ha dimostrato in Italia e all'estero e tu ne sai qualcosa tranquillamente quindi io ti ringrazio tantissimo spero di vederti presto quando sarà possibile e ancora grazie grazie cedo adesso la parola a Carlo Doglioni lo presento pure a lui Carlo Doglioni professore di geodinamica all'università La Sapienza di Roma attualmente è presidente dell'INGV si è laureato a Ferrara e ha percorso la sua carriera nelle varie università italiane di Ferrara Bari Potenza e infine a Roma La Sapienza si occupa di meccanismi di elettronica che ha proposto un modello di funzionamento legato alla combinazione degli effetti mareali con la dissipazione termica della Terra ma inoltre si è dedicato allo studio delle differenze meccaniche tra terremoti estenzionali compressivi e trascorrenti è socio dell'Accademia dell'INCEI e dell'Accademia of Europe e io gli cedo con molto piacere la parola ringraziandolo a te Carlo come ho detto Adel Bezio quando mancano tre minuti alla tua conclusione ti entro nell'audio e te lo dico grazie Antonio e prima di tutto ringrazio la presidente dell'ordine Tiziana Guida ringrazio le parole del sindaco ringrazio il direttore Turumello e soprattutto te Antonio per aver organizzato questo evento e ti rinnovo gli auguri per la giornata particolare che stai vivendo e devo complimentarmi con il Bezio perché la sua ricostruzione storica è stata bellissima utilissima e credo che mi auguro che venga diffusa il più possibile perché ci permette di ripercorrere le tappe non solo della protezione civile ma anche un po' della cultura italiana ora la l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia registra una media di tra i 15 e i 18.000 terremoti all'anno più o meno un terremoto ogni 30 minuti e come vedete questa è la mappa del 2020 rilasciata da poco dall'INGV e ovviamente il problema sismico è un problema importante in Italia e il terremoto del 30 ottobre del 2016 è stato di magnitudo 6.5 noi pensiamo che in Italia potrebbero arrivare al massimo terremoti tra 7.4 7.5 almeno secondo le attuali nostre conoscenze perché ci sono terremoti in Italia ci sono due subduzioni una sotto le Alpi e una sotto gli Appennini cioè la litosfera che entra all'interno del mantello però in natura esistono due tipi di subduzione quelle in cui la cerniera H della subduzione si allontana rispetto alla placca a tetto upper plate oppure le subduzioni in cui la cerniera si avvicina rispetto alla placca a tetto in questo caso si crea un bacino di retroarco dove si allontana e invece dove si avvicina si crea una catena e la velocità della subduzione non è uguale alla velocità di convergenza sono il risultato esattamente opposto ora gli Appennini e le Alpi hanno delle differenze che sono legate proprio a questo diverso comportamento della cerniera della subduzione agli Appennini la cerniera si allontana nelle Alpi invece la cerniera si avvicina rispetto alla placca a tetto e questo comporta delle grandi differenze qui appunto l'apertura del tirreno un prisma poco elevato una catena fatta per lo più di copertura sedimentaria una vanfossa profonda e dall'altra parte invece una catena a doppia vergenza una catena molto elevata con grandi affioramenti di rocce cristalline quindi due catene in cui per esempio la stenosfera sotto le Alpi si trova a 90-100 km sotto l'Appennino invece nell'avampaese sotto la litosfera adriatica mentre sul lato tirrenico è molto superficiale dalla mappa si vede appunto che negli Appennini sono scarsi gli affioramenti di rocce metamorfiche proprio perché non ci sono piani di sovrascorrimento in grado di portare in superficie rocce profonde in Appennino viceversa abbiamo piani di scolamento che viaggiano per lo più nella parte pellicolare della litosfera in sudduzione l'Appennino si è sviluppato lungo la retrocatena delle Alpi ed è migrato da ovest verso est relativamente nel tempo con una cerniera che appunto si allontanava arretrava relativamente verso est con questa cerniera contemporaneamente c'è stata questa c'è questa convergenza in corso Africa-Europa di 5 mm l'anno all'incirca che comunque sia è molto più lenta di tutte le velocità che noi conosciamo quindi l'Appennino comunque è governato dall'arretramento di questa subduzione e non dalla convergenza Africa-Europa questa subduzione della placca adriatica che vediamo appunto in questa sezione è associata dall'estensione di retroarco e dalla sismicità che viene concentrata e nel prisma accrezione ma soprattutto nella placca a tetto con tutta la tettonica estensionale che conosciamo dell'Appennino ora nella zona prendendo una delle sezioni classiche che ha fatto un po' la storia della geologia anche dell'Italia questa sezione di Pieri e Groppi si vede come i sovrascorimenti nel prisma accrezione si sono propagati nel tempo dal miocene superiore fino all'attuale determinando quello che è il prisma di accrezione in compressione attualmente lo vediamo anche dai dati GPS che corrisponde nella zona di subduzione a questa parte pellicolare della litosfera che scende al di sotto dell'Appennino con il cuneo stenosferico sul lato tirrenico e viceversa come possiamo avere compressione ed estensione contemporaneamente allora immaginiamo una litosfera che scende in subduzione e prendiamo questi due punti con l'arretramento del piano di subduzione questi due punti uno si sposta in orizzontale per compensare l'arretramento l'altro all'interno della placca in subduzione scende quindi vedete che si crea uno shear che viene trasmesso in superficie fino al prisma di accrezione ma contemporaneamente nella placca a tetto si crea uno sbilanciamento di volume che viene accompagnato appunto dall'estensione quindi compressione e estensione sono il risultato dell'arretramento del piano di subduzione e noi possiamo misurare grazie alla rete Ring italiana e in particolare degli NGV vedete che in Appennino centrale abbiamo un allontanamento un'apertura di circa 4 mm l'anno mentre nelle Alpi abbiamo un raccorciamento di circa un paio di millimetri all'anno il Gran Sasso è un po' una finestra che ci permette di vedere la storia di tutto l'Appennino perché vediamo il margine passivo con le rocce giurassiche mesozoiche coinvolte nel prisma di accrezione con le pieghe per procreazione di faglia che vengono poi rilasciate all'interno della zona interna in estensione con le faglie attive questo per esempio è il piano è la faglia delle tre selle una caratteristica scusa se ti interrompo forse si è bloccato perché stiamo ancora alla tua immagine al tuo profilo del 2007 come video mi dispiace perché qui io vedo che va avanti no cioè dove siamo rimasti al profilo del 2007 c'è questo sai che non nel senso che è rimasta bloccata proprio l'immagine quando provi a uscire dalla condivisione e ricondividere e adesso si vede dice che ha avviato la condivisione adesso è quella iniziale mi sembra sì cioè dove era arrivato no più avanti più avanti ecco perfetto a quella precedente si era fermata perfetto sta andando avanti a questa si era fermata sì ok allora qui si vedono appunto le due catene quella in cui la cerniera si allontana e qui la cerniera si avvicina la placatetto e l'evidenza è appunto le alpi che hanno grandi affioramenti di basamento gli appennini per lo più copertura sedimentaria e lo si vede anche dal appunto dagli affioramenti e poi in profondità si vede come la stenosfera sia molto più profonda sotto le alpi e più superficiale sotto l'arpenino occidentale e nel tempo si è visto appunto l'arretramento del piano di subduzione fino alla situazione attuale la subduzione della litosfera adriatica e la sismicità associata e la migrazione dei piani di sovrascorimento nel prisma accrezione appenninico che si sono propagati da ovest verso est o diciamo anche sud ovest nord est determinando quello che è l'attuale prisma di accrezione che si trova su questo su questa cerniera della subduzione della placca adriatica in pienura padana in adriatico anche giufino nello ionio e come possiamo avere questa contemporaneità tra compressione ed estensione prendiamo due punti uno nel mantello stenosferico e uno nella litosfera in subduzione con l'arretramento quello che succede è che il mantello va a compensare la parte di litosfera arretrata ma nel contempo la litosfera scende e crea una zona di shear che viene trasferito verso l'alto al prisma d'accrezione nel contempo si ha una perdita di volume nella placca a tetto che viene accomodata dall'estensione quindi abbiamo insieme estensione e compressione che possiamo misurare in circa 4 mm l'anno l'estensione circa 2 mm l'anno le zone di compressione e in un'immagine dell'appennino emblematica si vede si vedono i sedimenti di margine passivo coinvolti nel prisma d'accrezione e poi ritagliati dalle faglie normali che sono quelle attive sismogenetiche dall'aquila a per esempio il centro Italia ultimo ora prendendo una mappa proprio della sismicità nazionale si vede che il grosso della sismicità in appennino è lungo la dorsale mentre nelle alpi il grosso della sismicità è nelle zone frontali di bassa topografia e questo si vede anche in una diversa evoluzione della sismicità nel senso che quando inizia una sequenza per esempio negli ambienti compressivi inizia in zone superficiali poi si propaga in profondità viceversa negli ambienti estensionali sembra esattamente il contrario inizia in profondità e poi tutta la sismicità anche tutta la sequenza successiva si propaga verso l'alto e questo lo si può spiegare col fatto che in un ambiente di faliazione normale il carico litostatico determina un allargamento del cerchio di Mohr sulla destra perché il carico litostatico è sigma 1 viceversa negli ambienti estensionali il carico litostatico è sigma 3 quindi diminuendo il carico litostatico si facilita la rottura negli ambienti compressivi aumentando il carico litostatico negli ambienti estensionali avviene esattamente il contrario quello che vediamo in superficie è chiaramente legato a quello che succede nel mantello sottostante quindi i terremoti sono l'espressione superficiale fredda di quelli che sono le dinamiche a livello della tettonica delle placche è indispensabile avere una base reologica per questa discussione perché chiaramente andando in profondità aumenta la pressione ma aumenta anche la temperatura e la combinazione dei due fa sì che si crei una zona di stabilità che è quella in cui nella prima parte domina la pressione nella seconda parte invece più profonda domina la temperatura con deformazione viscoplastica nella parte superficiale invece un comportamento fragile questo spiega perché il grosso della sismicità si trova al di sopra della transizione fragile ed utile in profondità abbiamo una deformazione stazionaria quindi un trend steady state tra tempo e deformazione mentre nella parte fredda abbiamo una deformazione che avviene a scatti e questo cosa significa immaginiamo una crosta semplificata a due livelli uno fragile freddo sopra e uno disco plastico sottostante in cui la deformazione avviene in maniera stazionaria questo determina che il piano di faglia sia bloccato nella parte fragile ma questo comporta anche una dilatanza in un determinato volume all'intersezione tra la transizione fragile ed utile questa zona dilatata deve arrivare a un punto in cui oltre a fratturarsi e riempirsi di fluidi non è più in grado di sostenere il volume sovrastante che collassa e va a richiudere a riprendersi questo spazio che si è creato nell'intersismico cioè in sostanza il cerchio di Moore nell'intersismico si allarga verso sinistra fino ad arrivare a rottura quindi il ciclo sismico che noi immaginiamo è che nell'intersismico si crei una fascia in cui si creano migliaia di microfatture che a un certo punto come una fisarmonica si richiudono perché non sono più in grado di sostenere il peso del volume sovrastante determinato determinando l'evento queste fratture le conosciamo in pozzo le conosciamo in affioramento quindi non sono una novità si vede bene anche che prima degli eventi comincino a variare anche i rapporti tra VP e WS proprio per l'aumento di pressione dei fluidi all'interno di queste fratture immaginiamo una colonna di circa 10 km di crosta di carbonati che si lunga 30 km larga 10 che si muove per 2 metri verso il basso questo ovviamente determina una doppia coppia e un terremoto di magnitudo che può essere appunto intorno a 6 e mezzo ora la cosa strana che si vede praticamente in tutti i terremoti per faglia estensionale ed è il contrario negli ambienti compressivi è che la parte che va in subsidenza ecosismica è molto più grande del volume che viene sollevato durante l'evento e questo per esempio nel centro Italia accumulando a matrice visso e norcia si vede che il suolo si è passato di circa un metro mentre si è sollevato nelle spalle di circa una decina di centimetri e in sezione si vede che quindi il volume che è sceso nelle tre dimensioni è circa un decimo di chilometro cubo quello che si è sollevato è circa un centesimo di chilometro cubo questo significa che in profondità ci deve essere un volume in grado di assorbire questa differenza questa simmetria di volumi tra quello che scende e quello che sale e il coefficiente di Poisson non è in grado di spiegare questa differenza con la magnetotellurica si vede che queste zone che dovrebbero essere predilatate prima dell'evento sono più ricche in fluidi quindi è coerente col fatto che ci sia una fratturazione diffusa quindi noi stiamo parlando di volumi perché nei volumi che si accumula l'energia le faglie sono le strutture passive che permettono a questi volumi di mobilizzarsi più grande è l'area più grande è il volume nella sequenza del 2016 abbiamo avuto circa 6.000 km3 di volume che si sono attivati e l'area in superficie è ovviamente proporzionale anche alla magnitudo dell'evento ora spesso viene preso questo modello di cosiddetto simulatore di terremoti con una molla che tira un peso su una superficie immaginando che ci sia un comportamento ideale di ciclicità del movimento in realtà sappiamo che la terra ha una mancanza di ciclicità così regolare nella distribuzione dei terremoti purtroppo quindi questo ci impedisce di avere un elemento di predizione dei terremoti stessi ma questo modello che vediamo utilizzato spesso per simulare i terremoti in realtà in natura non esiste non esiste perché in natura sotto un chilometro di profondità tutta la terra è in compressione questo perché la pressione di confinamento generata dal carico litostatico si ripartisce sull'orizzontale anche negli ambienti estensionali per cui anche negli ambienti di rifting in realtà la terra sotto un chilometro è in compressione lo si vede nei pozzi lo si vede chiaramente da tutti i calcoli di carico litostatico e quindi di conseguenza non esiste trazione all'interno della terra non esiste estensione quindi il modello di rimbalzo elastico per gli ambienti estensionali almeno questa è la nostra interpretazione non funziona non può esistere perché non c'è questo tiro orizzontale perché in realtà anche negli ambienti estensionali la componente orizzontale è compressiva anche sigma 3 è sigma minimo prendiamo una sezione semplificata dal tirreno alla dorsale appenninica prendiamo la crosta quindi uno spessore da 10 a 30 km possiamo calcolare chiaramente la pressione il carico litostatico la transizione fragile ed utile ipotizzando una temperatura alla mo e quindi nella parte superficiale che si creano queste zone di dilatanza che preparano i terremoti e vediamo che c'è un rapporto tra questa profondità di circa 1 a 3 cioè 5 km significa che nell'orizzontale il volume può diventare di circa 3 volte cioè 15 km quindi passando da 5 km di transizione fragile ed utile a 10 vedete che il volume passa da 180 a 1500 km quindi aumenta di un ordine di grandezza così come aumenta di un ordine di grandezza anche la magnitudo di conseguenza aumenta di un ordine di grandezza anche il piano di faglia che è quello che rilascia le onde sismiche quindi noi abbiamo due tipologie di terremoti quelli in cui domina l'effetto gravitazionale negli ambienti estensionali quelli in cui domina l'effetto elastico negli ambienti compressivi in cui il movimento va contro la gravità e quindi sono energie di tipo diverso che determinano i terremoti gravitazionale per gli ambienti estensionali e elastico negli ambienti compressivi o trascorrenti quindi abbiamo terremoti che vanno a favore di gravità e terremoti che vanno contro la gravità e questo si vede anche nelle nelle repliche perché durano molto di più quelle legate agli ambienti estensionali rispetto a quelli complessivi perché andando a favore di gravità hanno sempre l'energia a loro favore il volume troverà il suo equilibrio solo a fine corsa e quindi questo spiega perché a parità di magnitudo grosso modo si vede che le faglie normali hanno delle sequenze sismiche che durano molto di più la sequenza del 2016 praticamente non è ancora terminata dopo 4 anni ha avuto più di 120.000 eventi successivi quindi noi possiamo suddividere l'Italia negli ambienti estensionali compressivi ovviamente qui semplificati quelli trascorrenti possiamo calcolare sinteticamente lo stress differenziale per andare a rottura e sulla base del flusso di calore noi possiamo calcolare lo spessore fragile della crosta e quello che vediamo è che dove lo spessore è minore abbiamo terremoti più piccoli questi cerchi indicano i terremoti massimi per queste zone in estensione dell'Appennino mentre andando dove lo spessore crostale è maggiore aumenta anche la magnitudo e quindi sulla base dei volumi noi possiamo provare a fare una stima della magnitudo massima che si può realizzare in Italia che è abbastanza corrispondente a quella che è poi la storia sismica dell'Italia ora come è fatta la mappa di pericosità si basa moltissimo sul catalogo sismico che però e questa è la mappa che immagino tutti riconoscete quella a destra che è 50 anni eccedenza del 10% tempo di ritorno di 475 anni e che è il riferimento per l'edilizia residenziale il catalogo è un'opera fondamentale utilissima però e sappiamo ovviamente che dove i terremoti ci sono stati come a Tuscania prima o poi torneranno ma ci sono anche zone d'Italia dove c'è una geologia una tettonica che ci dice i terremoti non ci sono ancora stati ma ci sono tutte le caratteristiche perché possono avvenire in futuro la finestra temporale che noi abbiamo della storia sismica nazionale è ovviamente troppo corta rispetto a quelli che sono i tempi della geologia tant'è vero che il catalogo è abbastanza completo per i terremoti maggiore di 6 per gli ultimi 400 anni lacunoso per tutto quello che è avvenuto prima prendiamo per esempio terremoti di magnitudo tra 5 e 6 nel 900 ce ne sono stati 235 se ipotizziamo una regolarità avremmo dovuto averne 2350 in realtà nel catalogo ce ne sono 651 quindi ne mancano all'appello probabilmente circa 1700 la stessa cosa possiamo fare per i terremoti di magnitudo per esempio 6 ne abbiamo registrati tra il 600 e il 2017 68 noi ipotizziamo che ce ne possano essere stati in realtà 170 su 10 secoli quindi in realtà ne mancano all'appello 79 quindi il catalogo è un grande strumento ma è inevitabilmente incompleto ora su cosa si basa l'attuale sistema di valutazione della pericolosità sismica prendiamo una faglia qualsiasi qui c'è stato un terremoto sulla parte a sinistra non c'è stato una faglia mettiamo lunga 60 km questa è una zona quindi dove c'è stata una frequenza di terremoti maggiore quindi viene classificata con una pericolosità sismica maggiore rispetto alla zona adiacente questo è quello che si vede per esempio nel nord Italia dove nella parte friulana abbiamo avuto più terremoti negli ultimi secoli che non nella parte più occidentale di conseguenza le norme tecniche di costruzione che come sapete non includono è un calcolo della pericolosità passoniano quindi non include il tempo e di conseguenza vengono dimenticati tra virgolette determinati terremoti perché sono avvenuti più raramente come quello di Asolo oppure quello più grande in assoluto del nord Italia del 1117 di Verona che ha avuto una magnitudo stimata anche di 6.5 e oltre quindi gli stessi sovrascorimenti che hanno generato il Friuli si trovano anche nelle aree che sono cosiddette a minore pericolosità sismica ma da un punto di vista geologico non ci aspettiamo che sia più probabile che i terremoti avvengano lì dove non sono ancora avvenuti piuttosto che il contrario le norme tecniche in realtà questo approccio passoniano ci porta a dire esattamente il contrario poi se veniamo in appennino di faglie sismogenetiche ce n'è decine non è che purtroppo ci sia semplicemente la faglia di Paganica o delle tre selle in realtà di faglie in grado di generare terremoti come quello dell'Aquila o di Amatrice ce ne sono decine lungo l'Appennino e questo significa che possiamo anche cercare di valutare la pericolosità sismica anche in modi anche leggermente diversi allora se vedete le accelerazioni previste per l'edilizia residenziale qui nella tabellina a destra queste sono le accelerazioni PGA massime registrate durante la sequenza del 2016 vedete che sono inevitabilmente molto più alte e perché sono più alte allora dalla ricostruzione diciamo storica che si può fare è che il terremoto dell'Irpinia ha dettato un po' quelle che sono state poi le direttive per l'ordinanza della presidenza del consiglio che in qualche modo ha imposto questi valori e anche questo tipo di approccio il terremoto dell'Irpinia aveva delle stazioni che erano tutte al di fuori della zona epicentrale per cui la più grande la più forte accelerazione come vedete è stata qui a Sturno che però era al di fuori appunto dell'area con massimo danneggiamento allora un'altra tecnica che possiamo immaginare è quella di ipotizzare anche quella che può essere la magnitudo massima negli ambienti estensionali e compressivi e da questa calcolare eventualmente le pericolosità prendiamo il terremoto dell'Emilia che ha avuto appunto dalla mappa di pericolosità un'accelerazione che ovviamente può essere superata quindi la mappa teoricamente è corretta ma come vedete le accelerazioni previste anche su suolo C quindi con una certa amplificazione rispetto a quelle misurate che sono nell'orizzontale circa 0,3 fino a 0,88 0,89 nella componente verticale sono molto più alte di quelle che sono le norme per le norme tecniche che vengono adottate quindi per ovviamente per la salvaguardia della vita cioè la mappa della pericolosità per questo tipo di valutazione ignora la componente verticale questo è quello che possiamo ricostruire del movimento del 30 ottobre eliminando la componente verticale questo è in realtà quello che si è misurato e andando proprio nel centro Italia si vede che la componente verticale è stata maggiore della componente orizzontale e anche il dato macrosismico qui ringrazio anche il collega Andrea Tertulliani e Simone Azzori perché qui si vede chiaramente che nella zona di massima componente verticale c'è stato anche il massimo danneggiamento cosismico adesso al netto di effetti di amplificazione locale che possono dare danneggiamenti macrosismi intensità macrosismiche più alte anche al di fuori di quest'area quindi quando si esce dall'area epicentrale praticamente tutto si abbatte tutto si riduce questa l'area epicentrale è vista sempre dal SAR e anche qui nell'evento dell'Aquila si vede che il grosso del danneggiamento è avvenuto dove c'è stata la maggiore componente verticale stessa cosa per l'Emilia quindi questo perché perché nella zona di massima componente verticale c'è anche la possibilità di massima componente orizzontale che agisce su un edificio che si sta muovendo velocemente anche verso il basso e quindi anche l'attrito tra i mattoni diminuisce quindi la maggiore componente orizzontale ovviamente è in grado di produrre danni molto più forti per esempio Norcia si trova al di fuori di questa zona nell'area in sollevamento e infatti le accelerazioni verticali orizzontali sono circa la metà quindi quando agiscono contemporaneamente la componente verticale quella orizzontale abbiamo il massimo del danneggiamento e questo lo si vede anche negli esperimenti in muratura che quando si aggiunge la componente verticale le murature sono molto più deboli prendiamo il terremoto dell'Irpinia che possiamo immaginare aver avuto un'area epicentrale di circa 600 km2 è un'area di grazie grazie al SAR noi adesso abbiamo un'impronta digitale di quella che è l'area epicentrale quindi possiamo veramente vedere la componente verticale e spesso si vede che l'epicentro non coincide con la zona di massimo movimento verticale lo si vede praticamente in tutti i terremoti del mondo almeno quelli che abbiamo misurato e si vede una forte correlazione tra l'area epicentrale in termini chilometri quadri rispetto alla magnitudo quindi ovviamente per esempio il terremoto della diamatrice visonorcia abbiamo circa 450 km2 si vede la stessa relazione anche per gli ambienti compressivi la cosa importante interessante è che le accelerazioni massime che possiamo misurare sia sull'orizzontale sia nel rapporto tra l'accelerazione verticale che orizzontale sono concentrate esattamente all'interno di questa zona che è identificata dal dato interferometrico e come vedete addirittura noi qui abbiamo siti che sono più vicini all'epicentro che hanno accelerazioni più basse di quelle che sono all'interno del volume che si è abbassato durante l'evento quindi l'area epicentrale viene definita soprattutto da quest'area quindi la cosa che proponiamo che è anche relativamente nuova è che l'area epicentrale è un'area in cui c'è un volume attivo cosa significa un volume attivo un volume che si sta mobilizzando durante l'evento che sia in abbassamento o in sollevamento dove abbiamo ovviamente le massime accelerazioni ma qui dentro quello che succede è che le onde sismiche che si propagano dal piano di faglia interagiscono con un volume che si sta muovendo mentre al di fuori qui il volume è passivo e subisce il passaggio abbiamo il drastico abbassamento delle oscillazioni con quelle che vengono definite dalle GMPE e quindi per l'anelasticità della terra quindi una forte diminuzione anche dell'intensità macrosismica quindi abbiamo un'area che viene mobilizzata un volume che ha un inizio di rottura col suo epicentro in superficie che non coincide necessariamente con la zona di massimo danneggiamento che è invece la zona dove abbiamo il massimo delle PGA e quindi il massimo del danno sismico ora per ritornare un po' anche alla storia che faceva il Vezio prima il motto che vi propongo è vale vale la pena ovviamente studiare terremoti vale la pena fare prevenzione perché non dobbiamo solo salvare la vita dobbiamo salvare le abitazioni dobbiamo salvare la nostra cultura le nostre radici quindi evitare che ci siano sorte di deportazioni per dieci anni della comunità che perde la propria libertà l'aggregazione sociale e di conseguenza anche tutto il tessuto socio-economico vi ringrazio grazie 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 Carlo non ci sono domande non mi sembra nella chat no non ci sono ho controllato pure io Carlo se puoi gentilmente togliere la condivisione eccoci grazie ancora per l'intervento che ha dato una visione del problema della pericolosità logicamente in tutti i mondi della ricerca ci sono differenti teorie che devono essere presentate logicamente questa è una teoria e io penso che forse è il caso in questo periodo magari organizzare proprio un bel convegno solo sulla pericolosità sismica in cui si mettano a confronto le varie teorie che sono presentate che si stanno presentando in questo periodo anche perché comunque fra poco penso che uscirà una nuova proposta di pericolosità sismica a livello nazionale quindi credo che anche un ordine o comunque anche gli ordini i diversi ordini insieme geologi ingegneri possono organizzare un convegno proprio impermiato sulla pericolosità sismica quindi io Carlo ti ringrazio per la tua presenza adesso volevo solamente dire una cosa che per l'emozione prima io avevo preparato una breve carrellata diapositive di nemmeno un minuto su Gigi Friello ma proprio per l'emozione ho mancato di condividere lo schermo è una emozione di amicizia e quindi alla fine di tutti gli interventi la manderò in onda perché credo che valeva la pena do adesso la parola ad Alessandro Amato Alessandro è un geologo dottore di ricerca in geofisica ma è dirigente di ricerca all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha diretto il Centro Nazionale dei Terremoti dell'INGV dal 2001 al 2007 e poi nel biennio 2012 2013 è stato membro della commissione grandi rischi e ha studiato molti terremoti italiani e del Mediterraneo e le strutture di faglie e vulcani ha coordinato comunque tantissimi progetti di ricerca nazionali e internazionali lavorando anche all'estero soprattutto negli Stati Uniti e pubblicando decine di articoli sulle maggiori riviste scientifiche dal 2017 dirige il Centro Allerta Tsunami dell'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia un centro di allerta importante ma nuovo e si occupa anche di comunicazione della scienza i rapporti tra scienza e diritto e ha pubblicato alcuni libri tra i quali io però consiglio vivamente a tutti i geologi di leggere sotto i nostri piedi un volume che è qua non so se lo vedete bellissimo carinissimo scritto in una maniera molto graffiante ma che ti porta veramente dentro il problema soprattutto basato sulle esperienze di Alessandro in tutti questi anni di lavoro quindi Alessandro se puoi iniziare la tua presentazione Alessandro non ti sento forse devi attivare l'audio eccomi 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 scusate ma dovevo ok allora non so se che cosa stiate vedendo in questo momento io intanto saluto tutti ringrazio Antonio innanzitutto grazie per queste parole esagerate che ha detto adesso ma mi fa piacere grazie a Giuseppina e all'organizzazione all'ordine geologi del Lazio soprattutto e a Tiziana e ai presenti allora io vi parlerò brevemente di della sismicità nella zona del Viterbese questo è quello che un po' mi ha chiesto Antonio e quindi farò qualche considerazione vedete lo schermo sì ma devi avviare la presentazione ecco perfetto ora adesso va bene quindi la telecamera mia la posso anche togliere credo sì 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 perfetto va bene ecco allora in questa presentazione che poi ho fatto in buona parte insieme al collega Mario Anselmi che è un ricercatore dell'INGV geologo anche lui e geologo diciamo proprio del Viterbese quindi mi ha dato una mano per alcune cose che poi vedrete e io vado allora non riesco ad andare avanti con le slide e qua forse eccolo allora vi descrivo brevemente adesso andiamo un po' a focalizzare sulla zona del Lazio e del Viterbese queste mappe più o meno le avete un po' già viste sono semplicemente mappe epicentrali dei terremoti più forti dell'Italia degli ultimi questo è l'ultimo diciamo millennio poco più dal catalogo che è stato descritto prima chiaramente si vedono i terremoti più forti i pallini rossi e quelli quindi sopra 6.5 qui non c'era ancora in questa mappa il terremoto di Norcia né quello di Amatrice ma comunque insomma più o meno ce ne sono di precedenti nelle stesse zone quindi si vede che il Lazio è caratterizzato da una sismicità importante soprattutto nell'area di Catena quindi nelle province di Rieti e di Frosinone fortunatamente diciamo per per la provincia di Viterbo anche se oggi siamo qui per ricordare un terremoto importante di 50 anni fa un terremoto piccolo potremmo anche dire ma purtroppo molto molto po' dannoso e questi appunto dicevo sono i terremoti del dal 2014 si intravede già che la provincia della zona dell'Alto Lazio ha dei terremoti comunque significativi questi pallini gialli sono comunque terremoti tra 5 e 6 di magnitudo se vediamo quelli dell'ultimo secolo quindi dal 1900 al 2000 troviamo appunto alcuni forti eventi che sono stati citati prima in particolare quello del 15 di Avezzano che appunto sono stati comunque importanti anche per il Lazio ma per la zona dell'Alto Lazio non c'è quasi nulla se non un paio di eventi che vedete qui subito dopo il confine della Toscana poi li vediamo meglio ecco zoomiamo un pochino sul Lazio di nuovo questi sono i terremoti storici questo era addirittura il catalogo precedente adesso era una mappa che avevo CPT 11 quindi non è l'ultimo ma poi abbiamo delle mappe più aggiornate del CPT 15 la zona del Viterbese la riconoscete tutti qui ha una sismicità vedete siamo abbastanza lontani dalla zona di Catena che è stata descritta prima come appunto quella con la maggiore deformazione e quindi maggiori terremoti e si riconosce il lago di Bolsene qualche evento e qualche evento nella zona dell'Alto dell'Alto Viterbese questo quadrattino qui è proprio il terremoto di Tuscania del 71 di cui parleranno poi i colleghi questa è una lista dei terremoti del Lazio del più o meno di tutto il catalogo vedete che tra tutti questi la maggioranza appunto sono zona marsica zona che diciamo a confine con l'Abruzzo o qualcosa molti nel Reatino un paio solamente sono terremoti importanti poi li vedrete nelle storie sismiche più avanti del Viterbese quindi il 1349 che poi fa parte di un terremoto molto complesso molto grande che ha colpito praticamente tutta l'Italia centrale è anche un po' meridionale dal Molise fino all'Abruzzo e fino all'Umbria e poi quello del 1695 di cui vedrete poi qualcosa allora questa è una mappa purtroppo qua non si vedono i confini del Lazio bene presa da Google Google Earth ma riconoscete sicuramente i contorni del lago la città di Viterbo e i terremoti che dicevamo allora qui con la con la leggenda che non si vede molto bene ma insomma questo è il terremoto più forte siamo intorno a magnitudo 6 ed è il terremoto proprio del 1695 di Bagnoreggio che ricordavo prima questi altri rossi sono terremoti da superiori a 5 e 5 non so se il mouse eccolo qua sono terremoti appunto della confine con la Toscana nella zona del del Paglia qua su o della zona quasi orvietano direi qua ecco abbiamo sovrapposto a questa mappa storica abbiamo sovrapposto i terremoti degli ultimi se non valerato dall'85 questi sono stati rilocalizzati proprio da da Mario e con un modello diciamo di velocità per l'area quindi abbiamo preso i dati del delle reti della rete NGV quelle che trovate in rete insomma sul sul nostro sito dove c'è tutto il bollettino dall'85 in poi sono stati rilocalizzati chiaramente rilocalizzare un po' aiuta a vedere meglio le cose ma insomma se non ci sono come non c'erano negli anni 80 e 90 delle reti adeguate poi le localizzazioni sono comunque un pochino affette da errori la cosa abbastanza sorprendente per me anche per Mario quando la guardavamo è proprio che questa sismicità di questi 30-40 anni si concentra molto a nord di Bolzena e sembra quasi finire proprio con il lago insomma sembra una sismicità che ha una sua localizzazione molto particolare a nord del lago poi c'è anche una sismicità diffusa intorno a Bolzena e andando verso la zona appunto dell'Umbria qualcosa qui nella zona proprio di Viterbo qua c'è questo cluster è proprio la zona di Tuscania e questo il quadrettino del terremoto del 71 ci sono quindi anche piccoli terremoti più recenti nella zona di Tuscania comunque una sismicità abbastanza diffusa prima non ho fatto notare ma se vedete il numero e la grandezza di questi simboli della zona dei terremoti del catalogo storico di Viterbo non hanno niente a che vedere con quelli più a est dell'Appennino che sono sicuramente molto maggiori vi faccio vedere qualche storia sismica questa è l'Aquila che non c'entra niente ma solo per farvi vedere una zona una città che ha tanti terremoti anche importanti faccio notare che tutti questi grafici adesso ne faccio vedere alcuni sono presi dal nostro catalogo CPT15 e il DBM15 quindi il database delle osservazioni macrosismiche da dove potete fare qualsiasi molti grafici mappe e queste storie sismiche per vostra curiosità quando vi capita qualcosa e questa dell'Aquila per esempio qui in ordinate ci sono le intensità mercalli quindi sono i terremoti come sono stati risentiti in questo luogo quindi l'Aquila più o meno il sesto grado sessimo settimo grado è la soglia del danno quindi tutti i terremoti sotto normalmente non fanno danni quelli sopra e vedete che ce ne sono parecchi qua siamo sull'ottavo nono grado se mostrassi una mappa una storia sismica di una città di un paese irpino avremmo anche dei decimi o undicesimi gradi o in Calabria e quindi vediamo Viterbo partiamo proprio da Viterbo questa è la storia sismica dal 1000 al 2000 e i terremoti sono sono abbastanza pochi e non molto forti vedete che il più forte riportato di questo terremoto di cui come dicevo si sa molto ma in realtà si sa poco perché ci sono cronache molto 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 antiche 1349 che ha fatto danni a Viterbo poi più avanti ci sono degli effetti per il terremoto del 1703 che è nella zona dell'Umbria la famosa sequenza sismica che iniziò in Umbria e poi proseguì all'Aquila nel mese successivo e poi qualcos'altro più avanti nel grafico successivo ah ecco questo è il terremoto del 1695 è quello di Bagnoreggio che dicevamo questi terremoti delle zone toscane e laziali della parte tirrenica sono caratterizzati sempre da una forte attenuazione quindi abbiamo dei danni importanti nelle zone epicentrali come in questo caso Bagnoreggio e zone intorno vedete quei rossi o viola sono nono grado o se non addirittura nono decimo forse ottavo nono e poi subito a pochi chilometri a 20 chilometri già abbiamo quarto quinto sesto grado quindi non danni quindi sono terremoti piccoli come diciamo area come area interessata per questo terremoto è stimata ma da dati solamente storici ovviamente non c'erano strumenti una magnitudo intorno a 5.7 5.9 secondo i cataloghi ecco qua ho messo le storie sismiche di varie località in provincia di Viterbo le vedete tutte insieme per comodità vi faccio solo notare alcuni elementi qui c'è Tuscania l'ho voluta mettere al primo posto e vedete che ha due terremoti per cui sono riportati danni dell'ottavo nono grado non solo quello del 71 che è questo l'ultimo a destra ma anche quello del 1349 sembra ci siano stati danni importanti poi ci sono comunque altri terremoti minori nel mentre Viterbo di nuovo l'avete già vista interessanti altri luoghi come Bagno Reggio con il terremoto del 1695 e altri minori successivamente questo del 1695 lo si vede anche ad Acquapendente a Bolsena a Monte Fiascone eccetera eccetera qui per curiosità ho messo anche alcune località un po' più un po' diverse Tarquinia quindi dove pure qui c'è solo un terremoto strano dell'inizio dell'Ottocento che ha danni solo a Tarquinia e poi mano a mano che si va diciamo un po' verso ecco lontanandosi dalle zone le zone sismi qui ho messo Capalbio che non è provincia di Viterbo ma siamo lì e che ovviamente ha ancora meno ancora meno effetti la mappa di pericolosità questa scusate devo mettere in carica il computer un momento solamente eccomi l'avete vista questo è uno zoom sulla zona parliamo sempre della mappa del 2004 riferimi a ordinanza del 2006 e via dicendo la faccio vedere solo perché mi sono incuriosito su vedere come era stata fatta e quindi vi faccio vedere alcuni elementi la zona di Viterbo Bolsena e compagnia come quella dei Colli Albani ha una sismicità un pochino più alta delle zone tirreniche per esempio quella del nord di Roma per i terremoti appunto che dicevamo il fatto che sia verde non deve ingannarvi qui la scala cromatica forse è stata scelta in maniera non appropriata all'inizio perché poi ci siamo accorti insomma gli autori soprattutto mi sono accorti che forse poteva essere un po' fuorviante e far credere che magari dove è verde non c'è pericolo no? in realtà la pericolosità è abbastanza elevata anche sul verde anche se con valori minori questi sono i valori citati prima 10% di proprietà di superamento in 50 anni questi sono su suoli rigidi quindi insomma questi valori possono aumentare allora mi sono andato a vedere la zona appunto sismogenetica la mappa del 2004 è fatta con le zone sismiche zone sismogenetiche zone diciamo che sono ritenute avere comportamento sismico geologico se vogliamo uniforme abbastanza uniforme all'interno questa qui è la zona parliamo della zona 921 si chiama Itruria e ha delle caratteristiche interessanti allora intanto qui a sinistra vedete lo spessore dello strato sismogenetico e che è stato assegnato intorno ai 5 km quindi poi tutto sommato un valore che è realistico come vedrete dopo come è stato accennato anche prima insomma tutto in questo settore ha uno spessore della crosta fragile piuttosto esiguo e quindi questo è considerato nella mappa di pericolosità come è considerata il tipo di terremoti qui vengono assegnati questa mappa centrale il blu e il celeste vuol dire meccanismi prevalenti normali in realtà vedremo che sono normali e trascorrenti non sono così proprio unicamente normali qui ecco è la magnitudo massima sempre per la mappa MPS 04 che teneva conto di questa lista di eventi qua sotto vedete che qua ci sono gli eventi del catalogo di magnitudo intorno a 4 e 7 intorno a 5 intorno a 5 e 2 e il massimo è 5 e 9 che è sempre quel terremoto di bagno reggio che dicevamo e poi non c'è più niente dopo per le magnitudo più forti per il confronto vedete la 9 e 2 e 3 che è invece l'Abruzzo vedete che qui ce ne sono tanto se ne sono di più ma poi se andate a 6 e 3 6 e 5 trovate degli eventi importanti che qua per fortuna non ci sono però qui ecco è stata assegnata una magnitudo massima per la diciamo per poi le elaborazioni del calcolo dei tassi di simbicità e della Gutenberg-Richter eccetera eccetera dando un valore maggiore di quello osservato per cautela quindi il valore massimo diciamo atteso in quest'area è 6.1 questa qua faccio vedere da un lavoro di nostri colleghi Chiarabba e De Gori a sinistra lo strato la spessore dello stratosismo genetico per tutta diciamo l'Appennino e poi per uno zoom sulla zona nostra e per la zona appunto dell'Alto Lazio e della Toscana e vedete che i valori appunto sono piccoli sono quelli che dicevamo prima sono dell'ordine di forse 5-6 chilometri e questa cosa si correla bene con il flusso di calore che vedete sulla mappa a destra che è più elevato in queste zone quindi lo spessore dello strato fragile è condizionato dal calore diciamo della litosfera più è alto e più si alza diciamo il passaggio fragile ed utile quindi questo torna con quello che vedevamo prima qui abbiamo rilocalizzato con Mario appunto se è un lavoro che stiamo poi rifacendo proprio in questi giorni rilocalizzato la sismicità di questo periodo di questi 35 anni questi sono sotto c'è la mappa forse non si riconosce qua la zona e qui c'è Bolsena il lago non si vede ma insomma è qua quindi sono gli stessi epicentri che vedevate prima nella mappa di Google Earth in profondità ecco se andiamo a vedere questi o anche limitandoci a quelli localizzati meglio vedete che poi qui in realtà le profondità identificate con la rete nazionale sono più alte di quelle che dicevamo prima si arriva addirittura a 10-15 chilometri probabilmente questo è un effetto del fatto che soprattutto per gli anni 80-90 le profondità non erano ben vincolate con questa rete e purtroppo quella c'era e quella ci dobbiamo tenere se andiamo a vedere un po' più in dettaglio alcune sequenze studiate dai nostri colleghi in questo caso Brown ed altri nella zona nord di Bolsena ci sono stati degli eventi nel 2014 e poi anche successivamente loro hanno fatto uno studio accurato con una rete locale e fanno vedere qui ci sono delle sezioni a destra delle sezioni in profondità che comunque questi sciami questi cluster di terremoti avvengono tutti entro i 5 chilometri 6 al massimo come si diceva prima quindi quando si ha la possibilità di localizzare i terremoti con accuratezza e con delle reti locali ritorniamo a vedere questa cosa che poi ha un effetto ovviamente sull'impatto dei terremoti perché un conto è un terremoto di magnitudo 4 a 5 chilometri e un conto è un terremoto 4 a 15 insomma gli effetti sono per il primo molto molto maggiori in superficie questo è uno schema sempre preso da un altro lavoro di colleghi Lisi ed altri del 2019 in cui rianalizzano questa sismicità soprattutto questa appunto della zona di Torre Alfina e a nord di Bolsena ma solo per ricordarvi tanto siete tutti geologi lo saprete meglio di me che la struttura di queste zone è caratterizzata da diciamo una copertura che in genere è quella vulcanica oppure in qualche caso quella sedimentaria recente ma poi sotto abbiamo delle metà all'octone e è ancora sotto la serie la serie toscana scusami tre minuti ok la serie toscana spesso raddoppiata eccetera eccetera e addirittura poi la serie la serie umbra sotto ma questo insomma per dirvi che poi i terremoti avvengono molto probabilmente all'interno della copertura sedimentaria in queste unità che sono qui caratterizzate da questi grandi lunghi thrust ma poi in realtà appunto che sono riattivati o per faglie normali o trascorrenti qui ho messo insieme tre cose per vedere il tipo di ho scritto pure male faulting il tipo di di faglie questo è un lavoro vecchio fatto insieme a Paola Montone Chiarabba e altri colleghi dell'Enel in cui analizzavamo i dati dei pozzi dei breakout nei pozzi nella zona appunto dei Vulsini di Latera Torre Alfina e poi i terremoti i meccanismi focali dei piccoli terremoti identificavamo questa estensione in senso appunto nord-est sud-ovest in parte appunto sempre confermata ecco dai terremoti che vedete lì a destra sono tutti i meccanismi focali di quei piccoli terremoti che vedevate sono normali o trascorrenti sempre con un asse diciamo di massima estensione nord-est sud-ovest se vediamo abbiamo provato a vedere se si potesse vincolare un po' meglio l'estensione diciamo attiva in questa in quest'area e se prendiamo il profilo che fanno questi nostri colleghi questi da Devoti e D'Altri non l'ho scritto mi spiace Devoti e D'Altri nel appunto che va dall'Argentario più o meno taglia quindi la provincia di Terbo e poi arriva fino all'Adriatico vediamo queste sono velocità dei punti rispetto all'Eurasia stabile questi sono millimetri per anno quindi qui al passaggio diciamo grosso che è quello della catena qui quindi la zona dell'Umbria vediamo un salto importante da 0-1 millimetri per anno di velocità a 4 diciamo e qui è dove si concentra la maggior parte della deformazione nella zona nostra che è questa che stiamo vedendo qui non è chiaro se questa estensione ci sia se sia non è così evidente ecco se vedete anche il movimento rispetto a Eurasia tutto il blocco è verso nord-ovest leggero ma verso nord-ovest quindi va investigato meglio insomma è una cosa che stiamo cercando di ricalcolare insomma di vedere come quando era avanti adesso questo non ne parlo non è il mio ruolo credo ne parleranno dopo i colleghi ricordare solo che la pericolosità non è il rischio la pericolosità se sommata agli altri ingredienti soprattutto la vulnerabilità nella zona del Viterbese fa poi sì che in alcune aree ci sia comunque un rischio elevato faccio un ultimo riferimento ho ancora due slide questa per dire una cosa che mi preme molto cioè che certe volte quando c'è qualche piccolo terremoto qualche piccola crisi sismica sciametti e via dicendo succede sempre qualcosa di spiacevole in questo caso ci fu nel 2014 un piccolo terremoto 2.3 quindi diciamo irrilevante forse neanche si sentono la maggior parte di questi terremoti ma a Monte Romano proprio probabilmente per la superficialità dell'ipocentro ci fu un po' di paura forse qualcuno di voi se lo ricorda qualcuno mi intervistò questo il Corriere di Viterbo e io dissi un po' di cose ma certo non dissi quelle che misero nei titoli cioè la terra trema ma niente paura la zona dell'epicentro non ci preoccupa il terremoto non c'è da preoccuparsi nessun movimento di faglie che è un assurdo proprio se c'è un terremoto una faglia si è mossa anche se poco e questo mi costrinse poi col Corriere di Viterbo a una replica che è questa che devo dire molto correttamente perché non capita quasi mai che lo facciano invece loro hanno ripubblicato un mio email in cui dicevo in realtà non rassicuro nessuno perché ricordando proprio Tuscania e casi del genere la vulnerabilità è il problema mi fa piacere quello che ha detto il sindaco di Tuscania che è stata fatta molta attenzione in questi anni alla ricostruzione e alla messa in sicurezza degli edifici temo che non sia così per tanti altri paesi del Viterbese ma non lo so quindi questo non entro ultima cosa perché siete geologi siete sicuramente comunque anche forse qualcuno di voi potrebbe essere coinvolto in non so redazione di piani di protezione civile ci sono anche i comuni costieri come dicevo prima sono quelli meno sismici se vogliamo ma c'è anche un pischio maremoto come diceva Antonio prima da un paio da quattro anni mi occupo di tsunami e bisogna ricordarsi anche questo rischio in questo in questo in questo territorio questa è una mappa che abbiamo fatto per l'esercitazione con Antonio giusto la regione Lazio e il dipartimento di protezione civile per un'esercitazione che ha fatto prima il basso Lazio l'altro anno e poi il Roma quest'anno Viterbo credo la farà a breve nei prossimi nei prossimi mesi riassumendo Viterbo è una zona a pericolosità media con massime magnitudi registrate di poco inferiori a 6 ma avevamo anche aggiunto che il rischio poi un'altra cosa ne parlerà credo il collega Clemente successivamente terremoti sono principalmente normali o trascorrenti con un'estensione nord-est-sud-ovest e spesso si manifestano sotto forma di sciami sismici questo diciamo ha delle implicazioni che adesso non possiamo investigare qui ma insomma forse c'è anche anzi direi con certezza c'è un ruolo dei fluidi in questa sismicità visto che siamo in zone geotermiche in zone dove c'è calore e ci sono tanti fluidi nel sottosuolo ecco dicevo le piccole profondità ipocentrali e la vulnerabilità degli edifici rendono comunque il rischio piuttosto alto e in ultimo appunto la pericolosità da maremoti la voglio ricordare insomma che è bassa per il Lazio non è come la Sicilia orientale o la Calabria ma comunque non è trascurabile va tenuta in conto e vi ringrazio grazie Alessandro poi anche nella mia presentazione mi collegherò a queste ultime cose che hai detto te e ringrazio non ci sono domande no volevo solamente non è proprio una domanda ma una considerazione sul problema proprio della comunicazione e anche la comunicazione filtrata attraverso i media che è un grosso problema che abbiamo è inutile nasconderlo perché spesso e volentieri noi diciamo delle cose e poi vengono diciamo trasferite in modo diverso quindi l'aspetto di comunicazione soprattutto in un'emergenza che è quello che poi per me è l'aspetto che mi riguarda è fondamentale ci sono dei metodi comportamentali che noi operatori di protezione civile dobbiamo tenere in emergenza per quanto riguarda la comunicazione è sempre meglio andarsi a cercare diciamo gli attori per far veicolare una cosa che aspettare che ci ci intervissino comunque quello che hai detto e che hai fatto vedere è importante importantissimo dobbiamo riuscire a comunicare nel modo migliore in maniera tale che non si limiti si mitighi il rischio che possano essere distorte le parole che noi diciamo quindi hai toccato un aspetto secondo me molto importante che dovremmo su cui dovremmo discutere molto se ci sono domande sull'intervento di Alessandro vedo altre domande tecniche ma non queste tecniche della piattaforma va bene ti ringrazio Alessandro grazie ancora per la tua presenza grazie grazie a voi allora adesso tocca ad Andrea Tertugliani come tutti lo presento pure a lui giustamente geologo che si è lavorato presso l'Università della Sapienza è il primo ricercatore presso l'Ingv dove ha rispetto ma si occupa principalmente attualmente di macrosismi che sismologia storica ed è quindi responsabile del gruppo di emergenza quest che interviene a seguito dei terrenoti significativi per effettuare i primi rilievi macrosismici che sono rilievi molto importanti e lui adesso ce ne parlerà proprio e in questa veste ha partecipato a tutte le campagne svolte per gli eventi sismici dal 1990 fino ad oggi quindi ha partecipato a molte campagne purtroppo è membro del comitato tecnico INGV e agenzia regionale di protezione civile abbiamo un accordo triennale ed è autore di più di 140 articoli sulle liste nazionali e internazionali eh il il suo intervento eh si occuperà proprio del rio macrosismico eh rivisto per il terremoto di eh di Tuscania ti lascio la parola eh grazie anche a te per essere intervenuto buongiorno a tutti mi sentite mi vedete sì ti sentiamo e ti vediamo ok mi scuso per lo sfondo però eh inevitabilmente la stanzetta di mio nipote quindi adesso lo cancellerò dal 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 computer spero lo schermo ditemi se eh ci siete vediamo metti la presentazione ecco perfetto adesso ci stai allora io silenzio ok grazie a tutti ringrazio tutti quanti presenti ringrazio ringrazio Antonio dell'invito e soprattutto di aver colto quest'occasione per ricordare quest'evento che come dire spero di non andare in controtendenza purtroppo secondo me non è così presente nella memoria collettiva a parte ovviamente dei cittadini tuscanesi ma non è nella memoria collettiva nazionale tantomeno sono convinto di questo anche a quella di molti addetti ai lavori le la presentazione che che andrò che andrò a fare prende diciamo molte informazioni molti dati da un lavoro molto recente dello scorso anno di Cucci ed altri e proprio affrontando questo lavoro ci siamo resi conto che molti colleghi più giovani sbarravano gli occhi quando li parlamo del terremoto di Tuscania nel 71 cioè non erano proprio magari non erano nati ma non era nelle loro conoscenze quindi direi che è essenziale ripercorrere soprattutto come è stato fatto prima di me adesso questa 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 conoscenza io farò un intervento forse più breve degli altri e cercheremo di dimostrare cercherò di dimostrare in maniera abbastanza veloce di che cosa si tratta quando si parla di effetti macrosismici e diciamo a quali conclusioni si possono arrivare mi perdonerete questa prima slide didattica ma magari non tutti hanno familiarità con la tematica quindi quando si parla di macrosismica si parla di di una disciplina della sismologia che studia osserva i terremoti attraverso i dati non strumentali cioè fondamentalmente i dati macroscopici gli effetti dei terremoti erano prima della sismologia strumentale l'unica l'unico strumento possiamo dire per per osservare e trarre delle 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 ipotesi delle deduzioni dagli effetti degli terremoti stessi quindi nasce così nascono così le scale macrosismiche che si basano sulla classificazione di elementi diagnostici caratteristici che poi sono stati organizzati in modo proporzionale alla loro gravità e quindi la scala che insomma tipicamente conosciamo come la scala Mercalli è quella che in qualche modo ci fa esprimere quello che è l'effetto del terremoto sull'ambiente superficiale sull'ambiente urbano sull'ambiente antropico adesso diciamo sta prendendo piede l'utilizzo della scala MS 98 che diciamo tiene conto maggiormente delle tipologie delizie della diversificazione che nei decenni nell'evoluzione costruttiva degli ambienti urbani e quindi è una scala che sta soppiantando la scala MCS che tendenzialmente viene usata preferibilmente per i terremoti storici mentre invece con la scala MS si fanno i rilievi per i terremoti recenti allora cosa è successo? Il 6 febbraio 1971 avviene questo disastroso terremoto nel Viterbese un terremoto come tutti i terremoti inaspettato ma come si è visto come ha spiegato Alessandro prima di me in un'area tendenzialmente considerata a bassissima sismicità effettivamente se noi osserviamo il catalogo come ha fatto vedere prima appunto prima di me Alessandro non ci sono eventi locali specifici nell'area nell'area di Tuscania se non i terremoti che vanno appunto più ad est che sono nell'area fra Orvieto Bagnoreggio e circondano il lago di Bolsena quindi questo terremoto si va a collocare in una come dire in una sorta di particolarità per questo poi è stato scelto di ristudiarlo cercare di capire quali potesse essere il motivo quali potessero essere i legami con la sismotettonica locale oppure se fosse semplicemente tra virgolette un terremoto vulcanico in ogni caso questo evento procura molti danni soprattutto al centro di Tuscania una trentina di morti e questo lascia la la comunità scientifica del soprattutto dell'epoca quindi negli anni settanta abbastanza incredula questo perché abbiamo questa qui ripropongo la la storia sismica di Tuscania che ha fatto già vedere Alessandro proprio arriva a dire che non c'era una preparazione ad attendersi dei terremoti in un'area appunto dove la sismicità è così scarsa e dove storicamente effettivamente è praticamente assente ora l'assenza di una sismicità in una zona può essere dovuta alla mancanza di informazioni quindi a una incompletezza del catalogo quindi mancanza di fonti storiche però ci sono diversamente altre aree del territorio nazionale dove la sismicità è più presente più frequente e questo crea sicuramente una sorta di condizione preparatoria anche nella cittadinanza ma soprattutto nelle generazioni che sanno che certe zone possono essere prone a subire una sismicità due parole sul terremoto nel 1349 come ha già mostrato Alessandro effettivamente questo è un evento molto particolare è una sequenza molto grande una delle maggiori che ha colpito l'Italia centrale presenta dei danni anche nella città di Tuscania le fonti sono se vogliamo controverse quindi non si sa bene se questo è un evento appenninico che ha fatto danni a Tuscania oppure è un evento locale che in coincidenza con l'evento appenninico in qualche modo ha sommato gli effetti nella città di Tuscania questo è un evento molto interessante da studiare purtroppo così lontano nel tempo è probabile che non lasci non ci sia modo di approfondirlo in modo più specifico il terremoto di Tuscania nel 71 colpisce fondamentalmente un unico centro abitato questa è la particolarità dell'evento quindi si racchiude nell'immaginario di questo terremoto una sorta di unicità cioè un terremoto che colpisce un unico centro abitato in una zona dove i terremoti probabilmente erano sino all'epoca sconosciuti alla popolazione e alle immediate generazioni precedenti agli anni 70 in questa foto si vedono i danni all'abitato si vede nella foto in basso a destra la visita del presidente Saragat per chi se lo ricorda in visita alla popolazione colpita dalla tipologia del danneggiamento si vede che effettivamente il terremoto fu molto serio vediamo un'altra immagine con gli edifici danneggiati si comincia già a vedere una tipologia edilizia che effettivamente sembra molto povere ora ci siamo chiesti perché tanto danno per un terremoto modesto sottolineiamo modesto perché come abbiamo visto anche nelle slide messe in precedenza sulla sismicità dell'aria effettivamente le magnitudo che ricorrono in quest'area sono abbastanza contenute insomma si parla di terremoti che possono arrivare intorno a 5 e sono terremoti che con quella magnitudo generalmente non producono non producono un danno così elevato c'è una sorta di contraddizione in termini poi si potranno trovare delle spiegazioni ovviamente come la superficialità dell'ipocentro o come un potenziale effetto di sito in un'area vicino però questo terremoto si pone in una situazione particolare Alessandro ha già parlato della grande attenuazione dell'energia sismica nei terremoti vulcanici e qui possiamo dire che siamo sostanzialmente in questo ambiente qua quindi si vede già dal campo macrosismico dell'intensità del terremoto del 71 come a 20 km da Tuscania già il terremoto era passato dall'essere come dire dannoso all'essere appena avvertibile il terremoto a Roma fu avvertito da pochissime persone e non lasciò nessun tipo di emozione nella popolazione l'unica altra località che risulta danneggiata in modo significativo ma non proprio grave è Arlena che stava subito a circa 10 km da Tuscania in direzione nord-ovest con un danneggiamento abbastanza lieve al centro storico ma niente da paragonare con gli effetti che subì appunto Tuscania stessa la stella rossa in questa mappa è la nuova localizzazione bicentrale ricalcolata con un tentativo di utilizzo dei dati strumentali dell'epoca fatto appunto da Cucce e da altri nello scorso anno questa è la Tuscania precedente al terremoto in questa foderia si vede come era urbanisticamente connotata si vede tutto il centro circondato dalle mura medievali se seguite il mouse vedete questa conformazione dell'area c'erano già delle aree di espansione siamo diversi anni prima del terremoto quindi il terremoto troverà un'urbanizzazione un pochino più intensa soprattutto nelle zone di espansione nelle zone esterne al centro storico stesso quindi una cittadina fittamente costruita con un'urbanistica tipica delle delle cittadine medievali con diverse chiese le mura medievali e un un apparato tipico Tuscania è sopra un un piccolo colle diciamo un alto piano leggermente rilevato rispetto alla topografia circostante ristudiare il terremoto di Tuscania però aveva alcune difficoltà dal punto di vista macrosismico come ho detto prima la scala MS ha necessità di utilizzare una classificazione rispetto alle tipologie edilizie colpite da un evento e una tipologia di danni quindi non potendo fare un rilievo diretto ovviamente ma a distanza di 50 anni chi ha ristudiato il terremoto si è affidato un pochino alla scarsa letteratura che c'era all'epoca e a cercare di ritrovare i dati originali prodotti dai rilievi del genio civile cosa che non è stato semplice perché molta della documentazione non è più disponibile è andata distrutta è andata dispersa molto interessante però fu un rilievo un lavoro fatto da Bertolucci ed altri del ministero dei lavori pubblici che all'epoca appunto si occupava dei terramoti come aveva detto anche prima il Bezio Galanti e questo rilievo si si è rivelato molto importante in quanto è un lavoro come dire svolto in grande modernità rispetto al tempo in cui è stato fatto però le classificazioni le osservazioni sulle tipologie delizie e le osservazioni sulle tipologie di danneggiamento subite dagli edifici in qualche modo sono state come dire adattate e ricondotte alle classificazioni che vengono usate adesso per avere un quadro e quindi ricondurre poi l'interpretazione del dato macrosismico ad un'ottica ad una visione più moderna fondamentalmente il centro il centro di Tuscania era composto da quattro tipologie murarie sono state individuate quattro tipologie costruttive gli edifici in cemento armato ovviamente che erano molto pochi gli edifici con i blocchetti di tufo comunque tutti edifici costruiti dopo la guerra negli anni 50-60 magari con con dei cordoli di cemento quindi una muratura squadrata diciamo tendenzialmente di buona fattura e poi le case più antiche le case più vecchie che dimostravano una muratura a sacco questa con doppio varamento con il riempito poi di materiale di risulta o la cosiddetta muratura romana come individuata appunto dagli ingegneri del genio civile all'epoca del terremoto queste due tipologie che vediamo in fotografia alla fine diciamo dei giochi non differiscono molto dal punto di vista della della resistenza all'input sismico e risulteranno come vediamo poi quelle maggiormente danneggiate si possono vedere anche come non ci sono grandi elementi di vincolo orizzontale piuttosto invece c'è una grande diffusione in questo tipo di edificato di travi spingenti tetti spingenti e cose che poi avranno il loro ruolo nel danneggiamento quindi abbiamo detto bisogna ricondurre queste tipologie delizie come classificate con le nomenclature dell'epoca a quelle riconosciute dalla scala AMS quindi in questo piccolo schema vediamo come queste quattro tipologie che vi ho elencato prima in qualche modo sono state riportate a tipologie diciamo più larghe più definite in questo schema maggiore alle quali poi viene assegnata una classe di vulnerabilità che nella scala AMS diciamo da AF va in senso di maggiore resistenza quindi la classe A sono gli edifici meno più vulnerabili quindi più più deboli fino agli edifici costruiti con con criteri antisismici per le classi superiori di E ed F noi andiamo a riportare questa i tipi diciamo della 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 in cui l'urbanistica il panorama urbanistico di Tuscane è stato costituito vediamo lì possiamo ricondurre alle prime tre classi di vulnerabilità tipo A tipo B e tipo C come vediamo scritti in rosso qua questo come avevo detto prima la muratura romana la muratura a sacco dal punto di vista della resistenza probabilmente non offrono nessuna differenziazione tra di loro e quindi sono entrambe murature che per noi possono essere classificate nel tipo A e quindi analoghe alle costruzioni diciamo appenniniche in pietra naturale in pietra grezza e quindi soprattutto senza cordoli e quindi nessun tipo di resistenze orizzontali Andrea tre minuti ok messe sulla mappa vediamo che queste tre tipologie di lizie si distinguono chiaramente insomma se noi vediamo in questa rappresentazione in cui sono state già referenziate tutti gli edifici di Tuscania danneggiate all'epoca del terremoto vediamo che all'interno delle mure medievale con la riga verde si concentrano gli edifici di classe A mentre nella zona di espansione si sono più diffusi gli edifici diciamo con i blocchetti di tufo conci e squadrate questo si riverbererà poi nella distribuzione del danneggiamento gli edifici in cemento armato erano all'epoca pochissimi e quindi diventano trascurabili per quanto riguarda poi una valutazione dell'intensità analogamente a riportare la classificazione sulle tipologie delizie e la vulnerabilità nei tipi della scala MS la stessa cosa viene fatta per le tipologie del danno e quindi utilizzando questi schemi sia per le case in muratura che per le case in cemento armato andiamo a vedere come sono stati definite i gradi di danno rispetto ai danni riconosciuti in Tuscania all'epoca del terremoto quindi più o meno le classi di danno si ricoprono tutti l'unico problema è che non c'è stato modo di recuperare un dato numerico degli edifici crollati totalmente cioè i collassi totali di strutture non sono disponibili come numero per cui in una classe sono state accorpati sia danno 4 cioè edifici che subiscono un danno gravemente strutturale trollo parziale eccetera con quelli che probabilmente non erano più recuperabili sono crollati completamente anche in questo caso sono state riportate in mappa la distribuzione dei danni in questo caso vediamo con i colori e vediamo che gli edifici non so se si vede bene se gli edifici con il quadratino in colore rosa che accorpano gli edifici maggiormente danneggiati quindi con il gravissimo danno strutturale sono concentrati nel centro storico mentre invece i danni più lievi sono diffusi nella zona di espansione quindi si evidenzia una differenziazione proprio tipologica vulnerabilità e danno nella distribuzione geografica della cittadina conclusione che cosa troviamo che gli edifici tipo A vennero danneggiati nel 60% dei casi in modo gravissimo in qualche caso con crolli totali mentre invece gli edifici tipo B cioè gli edifici con i conci squadrati ebbero un danno molto più contenuto circa il 7% di questo tipo di edifici ebbero un danno molto grave mentre gli edifici in cemento armato oltretutto pochi non vennero praticamente toccati dall'evento questo quadro si sposa abbastanza bene con un'assegnazione dell'ottavo grado della scala macrosismica ed è il grado che viene assegnato alla cittadina di Tuscania appunto come abbiamo visto anche nelle mappe precedenti dopo il terremoto in conclusione spero di essere rimasto nei tempi possiamo evidenziare che la tipologia di distribuzione del danno si configura soprattutto concentrato nel centro storico quindi l'oltre 70% dell'edificio del centro storico subirono un danno grave o gravissimo questo vuol dire edifici crollati parzialmente o totalmente in percentuali enormi rispetto a quello che è successo al di fuori delle mura medievale e poi si è vinto una grande attenuazione con la distanza come abbiamo già visto anche da altri terremoti dell'aria abbiamo visto prima nelle immagini del catalogo dal punto di vista della vulnerabilità quindi si mette in evidenza che questo danno probabilmente deriva da un edificato molto vecchio molto mantenuto che in queste condizioni componeva oltre l'80% degli edifici del centro storico una mancanza di elementi resistenti di orizzontamenti e sottolineerei un'assenza di memoria storica rispetto alla prevenzione sismica quindi quello che ha detto il vezzio prima quindi la memoria storica è fondamentale probabilmente in zone dove i terremoti si presentano con grandi tempi di ritorno si perde anche quella come dire quella capacità che era tipica una volta dei costruttori dei muratori di tener conto della possibilità dell'evento sismio e quindi usare degli accorgimenti soprattutto in periodi prima dell'applicazione della norma sismia e quindi il buon costruire evidentemente si era perso proprio per l'assenza di memoria sismica in questa area ipotesi poi sulla sismicità locale effettivamente questo grande danneggiamento messo insieme ad una vulnerabilità enorme rispetto a quello che abbiamo visto può e insieme alla superficialità dell'ipocentro può senz'altro essere una delle cause principali di questa concentrazione di danno in un'unica località non è da escludere un effetto di sito perché non abbiamo misure in loco per avere una dimostrazione di un effetto di sito anche se a mio avviso la vulnerabilità del centro storico è sicuramente la principale causa della gravità del danno che si realizzò nel 1971 e con questo ho finito e vi ringrazio grazie Andrea domande no non non credo non voglio fare una considerazione io in attesa se qualcuno vuole fare domande tutti quanti noi che abbiamo lavorato subito dopo i momenti subito dopo i terremoti sappiamo quanto sia importante avere i dati questi dati e quanto soprattutto spesso viene confuso il vostro lavoro con poi una la distinzione fra le aree che dovranno poi avere finanziamenti di ricostruzione e quelle che non non li avranno nel senso che il vostro lavoro ha un'altra finalità quella di rappresentare quello che è successo ma spesso e volentieri gli amministratori e la parte politica invece aspetta il vostro dato proprio per dare una discriminante sui fondi di ricostruzione io ti ringrazio ancora per il tuo intervento nel frattempo vedo che nessuno fa domande quindi passerei la parola a Paolo Clemente come tutti lo anche a lui lo presento laureato in ingegneria civile dottore in cerca di ingegneria delle strutture e attualmente dirigente di ricerca dell'Enea è stato professore a contratto in varie università italiane ha svolto lezioni sempre nell'ambito dei corsi di dottorato e di aggiornamento professionale soprattutto per ingegneri ha partecipato a numerosi progetti ed è stato coordinatore di diverse proposte di progetti di ricerca su finanziamento dell'Unione Europea partecipante a diverse conferenze internazionali come keynote o invited speaker e editore associato del giornale Civil Structural Health Monitoring e presidente dell'Antisismic System International Society è autore di più di 350 articoli scientifici e ha anche il copyright di quattro brevetti grazie per il tuo intervento che si occuperà lezioni dei terremoti quanta strada da fare ancora per una corretta prevenzione quindi ti lascio con piacere la parola anche a te e a tre minuti dalla fine ti intervengo con l'audio grazie Antonio grazie all'ordine dei geologi per avermi invitato in questa interessante giornata in realtà devo dire che il copyright c'è la linea io sono solo un inventore questo chi sta in un ente pubblico sa che funziona così ma questa è solo una battuta bene avete già parlato voi esperti del terremoto di Tuscania io penso di non aver nulla da aggiungere per raccontare quell'evento sismico solo che seguiva di qualche anno quello del Belice e avviava un decennio veramente terribile dal punto di vista sismico non so se si vede lo schermo se è qualche cosa che disturba che devo eliminare ditemi no no va benissimo così ok la sequenza sismica di Ancona dell'anno successivo la sequenza perché abbiamo eventi importanti sia a maggio che a settembre nel Friuli e poi il terribile terremoto dell'Irpinia del 1980 quando il gruppo nazionale difesa dei terremoti promise un mai più prima di vedere poi che cosa è stato fatto se è stata mantenuta questa promessa va ricordato che appunto lo stesso gruppo previde fece una previsione una stima in centomila miliardi di lire la cifra necessaria per migliorare sismicamente in maniera adeguata in maniera sufficiente l'intero territorio nazionale quei soldi non c'erano ma non è possibile nemmeno non sarebbe stato possibile nemmeno utilizzarli in breve periodo però sarebbe stato un investimento conveniente guardate quanto ehm abbiamo investito meglio abbiamo stanziato come stato per tutti i terremoti dal sessantotto in poi ehm questa è una stima del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e ehm come ha detto prima Andrea Tertulliani noto anche io che manca quello eh di Tuscania quindi giustamente oggi lo ricordiamo eh che cosa è necessario sicuramente una programmazione della spesa ehm stabilendo dei delle priorità per quanto riguarda il patrimonio pubblico e poi eh accennerò rapidissimamente anche alla questione eh bonus fiscali assicurazione obbligatoria che potrebbe invece stimolare un investimento del privato ma che cosa è successo dopo il terremoto ehm dell'Irpinia ehm purtroppo tra virgolette dobbiamo dirlo una certa calma sismica perché il primo evento di una certa di una certa intensità si è verificato diciassette anni dopo diciassette anni eh passati a a dimenticare qui voglio ricordare quanto ho già detto ehm sia da Ezio Garanti sia da Carlo Roioni eh la memoria è il nostro l'assenza di memoria è il nostro peggior ehm difetto ci siamo ci dimentichiamo le disgrazie e soprattutto ci dimentichiamo quando le disgrazie non ci colgono eh personalmente direttamente in realtà qualcosa però è stato fatto ehm al di là adesso della validità dei valori di quella mappa che vedete a destra che è quella attuale che hanno già mostrato altri prima di me ehm però va notato che partivamo dagli anni settanta da una cartina italiana che era quasi tutta bianca solo il venticinque per cento delle dei comuni delle zone scusate non classificate sismiche e si parlava di una classificazione a livello comunale dopo questo decennio ehm la mappa la carta si è ricolorata parecchio in zone uno due tre con l'aggiunta appunto della zona tre ma solo nel duemila tre abbiamo l'Italia interamente colorata su quattro ehm classi oggi non abbiamo più una classificazione o meglio ce l'abbiamo e viene utilizzata anche con delle sub classi a livello regionale per problematiche di pianificazione territoriale ma in realtà per progettare ci rifacciamo a una scala continua abbiamo una maglia di cinque chilometri per cinque che copre tutto il territorio nazionale quindi abbiamo dei valori puntuali che variano al continuo anzi fin troppo visto che ci vengono fornite anche le terze cifre decimali di questi parametri forse un po' esagerato ma comunque una variazione al continuo e quindi non ci sono più quei quei salti che una volta potevano essere davvero strani normativa sismica che in realtà comprende la classificazione ma per noi ingegneri comprende di più significa molto di più procedure di calcolo modelli di analisi valutazione delle azioni sismiche e anche qui c'è stata un'evoluzione enorme qui riporto così storicamente cosa succedeva prima dell'avvento della dinamica delle strutture diciamo così che entra in normativa solo nel 75 quindi vedete quella distribuzione di forze costanti con l'altezza anzi più grandi al primo piano diventa una distribuzione crescente verso l'alto proprio per simulare il comportamento dinamico di un edificio che è una struttura di sviluppo verticale oggi abbiamo degli spettri elastici molto evoluti che si basano su tre parametri abbiamo dei coefficienti per valutare l'amplificazione del suolo anche se su questo io suggerisco sempre di eseguire delle prove di risposta sismica locale e poi questi questi spettri li riduciamo a spettri di progetto per tener conto della capacità di una struttura di dissipare energia bene abbiamo quindi le mappe dell'ingv tante mappe per varie probabilità di superamento in 50 anni la più pericolosa è quella che vedete in basso a destra ma noi non usiamo quella per progettare le strutture ordinarie usiamo quella in alto a sinistra che è relativa a una probabilità di superamento del 10% in 50 anni e tra i due le due mappe che sono riportate i valori in questo diagramma che vedete c'è un rapporto mediamente di uno a due quindi noi progettiamo normalmente costruzioni ordinarie con accelerazioni che sono circa la metà di quelle massime che oggi la normativa prevede non sta a me ne avete già parlato in abbondanza non sta a me in questo contesto di se sono validi o meno ma sicuramente non progettiamo con quelle massime che oggi sia le nostre conoscenze sia le nostre norme ci forniscono bene un altro concetto e qui apro una parentesi su alcuni aspetti da migliorare nell'attuale normativa abbiamo detto che c'è stata una grossa evoluzione ma ci sono alcuni aspetti da migliorare di questo ne ha già parlato molto profonditamente Carlo Doioni nasce il fatto di trascurare la componente verticale nasce storicamente dalla considerazione che un edificio già è pensato per sopportare azioni verticali e quindi un aumento o una diminuzione di questa non comporta grossi problemi all'edificio ma così ci si dimentica che l'azione verticale è concomitante ad una orizzontale e una riduzione dello sforzo normale su un pannello murario ma anche su un pilastro in cemento armato presso in flesso ne riduce la capacità di sopportare azioni di taglio e quindi possiamo avere fenomeni di rottura molto più facilmente come il professor Doioni ha mostrato sperimentalmente si è verificato anche nel terremoto dell'Italia centrale un altro degli aspetti che normalmente trascuriamo ancora nella nella progettazione è la variabilità dell'azione sismica sì certo se gli edifici sono piccoli compatti il problema non c'è con fondazioni collegate fra di loro platee o travi rovesci o plinti collegati ma laddove abbiamo delle stecche lunghe probabilmente c'è bisogno di pensare alla variabilità delle azioni delle onde sismiche lungo lo sviluppo dell'edificio stesso cosa che normalmente si fa ovviamente per i viadotti che hanno lunghezze anche di vari chilometri e anche se in maniera approssimata si può tener conto della variabilità dell'input bene un'altra considerazione che contrariamente a quello che facciamo per le azioni verticali quando progettiamo valutiamo una struttura sotto sisma noi consideriamo le azioni nella loro entità non le amplifichiamo per i famosi coefficienti gamma resta come fattore di sicurezza solo la riduzione delle resistenze dei materiali attraverso quei gamma che vedete sulla destra che sono poi diversi per i vari materiali questo significa che in pratica in occasione del terremoto di progetto la struttura non ha ulteriori riserve in pratica e quindi noi progettiamo strutture che nella loro vita possono sopportare al più un evento pari a quello di progetto e in caso di evento superiore e abbiamo visto può verificarsi non possiamo dire assolutamente nulla la struttura avrebbe tutto il suo diritto di crollare non avendo le resistenze adeguate perché non progettiamo invece a danno zero beh questo è un altro di quei dogmi che noi che abbiamo studiato ingegneria sismica negli anni 80 io all'inizio degli anni 80 ci siamo sentiti dire per motivi economici architettonici dovremmo costruire dei bunker poco funzionali e tanto costosi allora ci affidiamo alla duttività con delle scelte ovviamente idonee dal punto di vista progettuale curando i dettagli costruttivi in modo da avere un danneggiamento controllato quindi una dissipazione di energia d'altra parte ci interessa salvaguardare la vita e scongiurare il collasso ecco che quindi abbattiamo quello spettro di risposta che ci dà una misura dell'azione sismica totale che investe una struttura in funzione del suo periodo proprio di oscillazione attraverso questi fattori di comportamento che tengono conto appunto della capacità della struttura di dissipare energia e della sue variazioni che subisce a seguito delle prime plasticizzazioni e in realtà sarebbe più opportuno e possibile stabilire una soglia io qui l'ho indicata come 0,5G lo vedete nella figura superiore ma è indicativa anche se può essere anche nettamente maggiore al di sotto della quale progettare comunque in campo elastico e ricorrere all'utilità solo laddove questi valori vengono superati dagli spetti elastici dei siti in Italia così potremmo nelle zone a media e bassa sismicità avere danno 0 in occasione di un terremoto potremmo avere danni ridotti se adottiamo fattori di comportamento non superiori a quel 2,5 che io ho indicato lì in alto sulla destra pensate che oggi per strutture in cemento armato e acciare si può arrivare tranquillamente anche a fattori di comportamento pari a 4 o 5 bene nel diagramma invece in basso vedete la distribuzione dei valori del plateau dello spettro sul territorio nazionale è riferito al suo origine o va detto ma si può ovviamente modificare adeguatamente assumendo quello 0,5 come valore massimo di progetto in campo elastico vedete che su due terzi del territorio nazionale sarebbe possibile progettare in campo elastico quindi una considerazione che va fatta e sicuramente possiamo affidarci all'utilità nelle zone ad alta sismicità ma perché non progettare diversamente nelle zone a bassa e media sismicità d'altra parte nelle zone ad alta sismicità potremmo pensare a criteri per esempio tipo quello di limitazione di altezza di edifici oppure a molto meglio all'adozione pressoché obbligatoria di moderni sistemi antisismici e quindi tutto questo perché in fondo la normativa fino a qualche tempo fa ci diceva che l'obiettivo era quello di salvare la vita umana danni limitati strutture essenziali funzionanti ma questo non è più un principio sostenibile intanto abbiamo visto quanto costa ricostruire e poi c'è una contraddizione cosa significa funzionanti le strutture essenziali se non le progettiamo adeguatamente adesso lì nell'immagine intravedete il palazzo del governo dell'Aquila che è un caso emblematico ma poi ci sono anche le strutture a rischio incidenti relevanti per le quali non possiamo certamente accettare alcun danno noi non abbiamo impianti nucleari funzionanti in Italia però abbiamo tanti impianti chimici petrolchimici sparsi su tutto il territorio nazionale anche in zone ad alta sismicità e allora ci ricordiamo che nel gioco fra capacità e domanda o se volete resistenza e sollecitazione noi possiamo aumentare la capacità della struttura e quindi ci riferiamo a tecniche tradizionali oppure possiamo in maniera molto più intelligente puntare a ridurre la domanda quasi come un pugile che scansa il colpo anziché di assorbirlo e di sostenerlo e quindi utilizzare tecnologie innovative come l'isolamento sismico e la dissipazione di energia questa è un'immagine che vi fa capire ma penso che lo conosciate già tutti che cosa consiste l'isolamento sismico nella struttura vedete la struttura non è più incassata alla sua fondazione ma ne è separata attraverso questi cuscini in gomma o altra tipologia che si può chiaramente adottare la tecnologia oggi si offre in modo da filtrare le azioni sismiche e in pratica rendere poi la sovrastruttura insensibile alle azioni sismiche stesse oggi possiamo realizzare dei piastroni molto importanti ecco questo è uno dei brevetti di cui parlava prima Antonio Colombi fatto qualche anno fa questo è un artificial ground in pratica come l'hanno chiamato i giapponesi qui realizzato con un piastrone in cemento armato alleggerito con tubi in vetroresina fra la parte superiore e quella inferiore ci sono isolatori sismici al di sopra di questi piastroni questo è il vantaggio di questa tipologia di utilizzo dell'isolamento sismico si può realizzare una qualunque struttura anche irregolare per esempio per replicare pensate un centro storico di quelli rasi al suolo dal terremoto del centro Italia di qualche anno fa bene quando parliamo di edilizia nuova in fondo siamo bravi sappiamo fare possiamo fare tante cose sappiamo fare tutto possiamo fare quello che vogliamo il problema la vera sfida è cosa facciamo con l'esistente dove va riconosciuto l'ingegneria sismica degli anni settanta in parte anche degli anni ottanta ha commesso dei gravissimi errori cioè quello di aver preteso di applicare alle strutture esistenti gli stessi concetti le stesse tecniche che si erano sviluppate per le nuove costruzioni chiaramente i risultati sono ben visibili in alto un edificio in prossimità dell'Aquila a sinistra vedete la basilica di Colle Maggio sempre all'Aquila e qui sull'esistente ci sono altre lacune della nostra normativa perché perché mentre abbiamo visto come la norma definisce un livello di terremoto da considerare di azione sismica da considerare per gli edifici nuovi di fatto non lo definisce per gli edifici esistenti in pratica accetta che il coefficiente di sicurezza questo zita con e che vedete in basso possa essere anche inferiore a 1 ma non ne definisce un valore minimo quindi lì può venire fuori qualunque numero anche se quel numero fosse minore di 1 non c'è obbligo di interventi e quindi questo a mio avviso è una lacuna che va colmata mentre per le azioni verticali che vedete invece questo zita v in alto sulla diapositiva qui non ci sono sconti questa verifica deve essere soddisfatta altrimenti bisogna prendere dei provvedimenti bene abbiamo accennato all'inizio di come spingere in qualche modo diciamo la nostra mentalità e le iniziative per migliorare sismicamente l'intero territorio nazionale ci sono come ben sapete delle iniziative interessanti io sono favorevolissimo a questi incentivi fiscali l'unica cosa che dico attenzione però come li utilizziamo perché guardate mentre da un punto di vista energetico per esempio è richiesto un passaggio di due classi sapete che da alcuni anni anche da un punto di vista sismico abbiamo le classi dalla A più alla G scendendo ovviamente nel senso della qualità e per appunto l'aspetto sismico e per l'utilizzo di questi incentivi fiscali il famoso sisma bonus non è richiesto un minimo di incremento cioè si può anche rimanere nella stessa classe a mio avviso questo è un è un limite che va superato perché un edificio che sta in classe G non vale la pena spenderci soldi pubblici per lasciarlo in classe G ma anche per alcune classi superiori ma dico ancora di più non ha senso intervenire da un punto di vista energetico su un edificio che non offre garanzie sufficienti da un punto di vista strutturale è interessante invece che se si cede il credito a un'impresa di assicurazione poi si stipula una polizza che copre il rischio appunto da affronti di eventi calamitosi come quello sismico abbiamo diritto a una detrazione del 90% sul premio bene sì arrivo uno dei motivi per cui si utilizzano poco gli incentivi fiscali perché bisogna abbandonare casa da un punto di vista sismico bisogna abbandonare casa per un po' di tempo anche queste sono alcune tipologie di interventi che invece consentono di intervenire dall'esterno e in continuità della presenza degli abitanti stessi questo è uno degli altri brevetti di cui parlava Antonio Colombi prima è utile soprattutto per edifici di interesse storico-artistico qui si interviene inserendo dei tubi al di sotto della fondazione e quindi che poi vengono diciamo tagliati a metà inserendo isolatori sismici non è proprio così ci sono ovviamente delle operazioni molto più agevoli e così facendo si isola sismicamente un bene in superficie senza nemmeno toccarlo quindi questo capite bene che è ottimo per gli edifici di interesse storico ma come possiamo convincerci noi stessi a investire sulla sicurezza beh sicuramente la sicurezza deve entrare nel valore di mercato dei nostri edifici e una delle proposte che abbiamo fatto negli anni passati è quella di un'assicurazione obbligatoria a fronte dei rischi naturali che certamente solloverebbe lo Stato dalle spese di ricostruzione e velocizzerebbe diciamoci lo vediamo tranquilli non penso che sia bisogno di commenti i tempi di ricostruzione ma soprattutto ci costringerebbe a verificare la qualità del nostro costruito e a realizzare quella che io chiamo un'anagrafe del costruito è una nuova tassa mi si dice certo che è una nuova tassa ma che deve sostituire quelle che noi con le quali noi paghiamo sempre le ricostruzioni pensate alle accise sui carburanti eccetera non scendo sui dettagli ma non costa costa pochissimo rispetto a quello che costa per esempio l'assicurazione delle nostre automobili che tanto che potrebbe essere utilizzata anche per ricavare un fondo da mettere a livello nazionale disponibile per il miglioramento delle strutture l'anagrafe del costruito già vi ho detto che sarebbe fondamentale perché senza conoscere non si può intervenire è chiaro che qui se ci sono dei costi andrebbero incentivati con bonus fiscali chiudo segnalandovi questa iniziativa di alcuni colleghi dell'Enea per un approccio integrale sicurezza e efficienza energetica è uno strumento che deve utilizzare un tecnico chiaramente per un'indagine speditiva per una prima valutazione energetica e strutturale di un edificio esistente sotto trovate i nomi dei colleghi che potete contattare per maggiori informazioni concludo sarò già citato la questione informazione prevenire significa anche informare allora perché non pretendiamo che davanti almeno agli edifici pubblici non sia apposta una tabella una targa che dica a quale classe di rischio appartiene quell'edificio vedete a sinistra in senso inverso in America tabelle di questo tipo ce ne sono tante parlo ovviamente della California qualcuno in realtà ci ha pensato ci ha pensato ed è nato il marchio Sisma Safe standard e gold quindi in due versioni che serve proprio per valorizzare l'investimento nella sicurezza ho avuto l'onore e il piacere di far parte del comitato scientifico insieme al collega Buffalini che ha e altri che ha messo a punto un disciplinare e ovviamente potete anche in questo caso consultare il sito per saperne di più con questo credo di aver finito ringrazio tutti per l'attenzione grazie 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 Paolo hai toccato dei temi cari credo a tutti i professionisti che lavorano nel campo siano essi ingegneri geologi architetti sono è un cambio culturale quello che dici te e che questa nazione secondo me deve avere assolutamente come uno degli obiettivi nei prossimi anni ma non nei prossimi decenni ma nei prossimi anni perché più tempo si perde e purtroppo un terremoto arriva arriva sempre quindi sono passati ormai cinque anni dal terremoto del centro Italia e stiamo là quindi questo è un aspetto fondamentale sia quello di tutelare di prevenire prima ma anche di rendere più sicuri anche a livello comunicativo la persona che vive in quell'edificio o che entra in quell'edificio come in Nuova Zelanda se te vai nei edifici pubblici c'è la targa e ti dice attenzione stai entrando in un edificio non adeguato sismicamente queste sono le regole di comportamento però io ti avverto e quindi questo della targa è una cosa molto molto importante ti ringrazio ancora c'era forse una domanda c'era qualcuno che mi ha vai vai Giuseppina si gli ho consentito di parlare quindi può attivare il microfono visto che io l'ho attivato non so se mi sentite ecco allora volevo chiederti non è non è geologica come domanda è piuttosto ingegneristica mi rendo conto però sarebbe interessante cioè della normativa sismica rispetto alle costruzioni in qualche modo interviene sulle strutture e sul diciamo così i calcoli tendono ad aggravare le strutture ehm mano mano che aumenta la pericolosità sismica la classificazione sismica del terreno le sue caratteristiche non è possibile fare invece una eh come posso dire una classificazione una preferenzialità nei materiali da costruzione da impiegare nelle varie classificazioni sismiche ma oddio questo è nella pratica c'è perché ci sono ma anche senza imporre per legge nulla è chiaro che se io vado a progettare un edificio in mutatura non riuscirò a fare un edificio di sette piani insomma questo è in pratica quindi in pratica c'è ehm ovviamente ehm non è possibile precludere una cosa del genere perché significerebbe capite bene eh favorire chi produce cioè calcestruzzo rispetto a chi produce mutatura insomma quindi vedo questo non non credo che si arriverà mai una cosa del genere però dei limiti normativi che ehm per esempio alcune alcune strutture alcune tipologie e alcuni materiali eh hanno eh a livello normativo in pratica scoraggia il loro utilizzo in in certe zone per almeno per realizzare eh certe tipologie eh strutturali insomma eh quindi non c'è nessun limite poi sapete che per strutture in telaiate in acciare in cemento armato non è mai esistito alcun limite in altezza ehm e questo è giusto ma in realtà il limite lo fornisce poi il calcolo l'analisi strutturale eh quindi ci si accorge che che oltre certi eh valori non non si può andare insomma ecco però non credo che ci possa essere ma è un limite anche per per un altro motivo che poi ognuno tende a utilizzare i materiali che ha eh nel nord nelle nostre per provincia di Trento e Bolzano si utilizza anche molto il legno che è l'unico materiale da costruzione che so in nord Europa eh quindi ognuno in qualche modo utilizza quello che ha legno che sarebbe un ottimo materiale da un punto di vista eh sismico se ben applicato ovviamente perché è leggero e quindi eh e ha un buon rapporto resistenza peso eh e quindi sarebbe un ottimo materiale da un punto di vista sismico eh Paolo poi mi approfitto grazie hai detto grazie pure a te Carter ehm quel ben applicato eh da ricordare ne parlavamo pure con ehm Alessandro Amato il fatto che comunque in ogni caso se l'edificio è costruito bene a norma difficilmente collassa per un terremoto nel senso che quello è un altro problema cioè oltre alle normativa è anche la scelta dei materiali eh tutta la filiera che va dalla progettazione alla direzione dell'opera che magari la concezione strutturale eh ovviamente in zona sismica vanno bene le le strutture compatte regolari ehm e quindi sicuramente eh sia una porta aperta chiaramente eh ovviamente non dimentichiamoci visto che siamo in un soprattutto che siamo in un convegno di geologia che la scelta del sito e viene sempre al primo posto questo lo dico anche io che sono uno strutturista però eh non c'è dubbio che rientra un po' in quella filosofia di eh ridurre la domanda e quindi cioè mettersi in una situazione in cui l'azione sismica è meno è meno gravosa rispetto ad altre insomma assolutamente sì grazie ancora Paolo grazie a voi adesso eh passiamo al prossimo intervento Salvatore eccolo là già buongiorno 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 a tutti ti presento pure a te eh Salvatore Martino è professore associato di geologia applicata presso l'Università della Sapienza di Roma e a Felice al centro di ricerca per gli ischi geologici comunemente chiamato da tutti i ceri eh la sua ricerca è focalizzata sui fenomeni di frana e il loro monitoraggio nonché sugli aspetti logicamente eh afferenti anche indotti da dai dai terremoti è direttore del laboratorio di geologia applicata presso il Dipartimento di Scienze della Terra e anche direttore del campo sperimentale della cava premestina di Acuta gestito sempre dal CEA ha coordinato e lo conoscete tutti quanti probabilmente che ha fatto microzonazione sismica eh per conto proprio del centro di microzonazione sismica tutte le applicazioni agli studi eh di livello tre in tredici municipalità colpite dal dal terremoto del centro Italia ma anche eh quello del comune di Forio di Ischia del terremoto del duemiladiciassette lui eh ci parlerà eh degli effetti sismondotti e multi hazard bellissima parola la storia quale chiave eh per l'analisi di scenario a te la parola come tutti a tre minuti da fine ti intervengo con l'audio grazie innanzitutto eh ringrazio appunto la organizzazione di questa ottima iniziativa e quindi l'ordine dei geologi del Lazio e te Antonio per avermi dato questa la parola in questa occasione sì allora io eh riprendo il tema della memoria della memoria storica e la riprendo in chiave di effetti che i terremoti producono sul territorio eh esordisco rubando una frase a una scrittrice americana eh che è tradotta in italiano afferma che il passato non è solo ciò che è accaduto ma che ciò che potrebbe essere accaduto successo ma non è accaduto questo proprio perché eh diciamo ci dà lo spunto per riflettere su quanto possiamo realmente apprendere dal passato e da ciò che è accaduto sui nostri territori eh riagganciandomi anche in parte alle presentazioni che mi hanno preceduto in particolare alle ultime due è eh diciamo abbastanza eh noto è abbastanza intuitivo pensare al terremoto come a un evento catastrofico per non dire apocalittico eh che produce la distruzione soprattutto edilizia quindi eh che causa la scomparsa no di centri abitati e con essi di cultura di civiltà e di storia e di tradizione questo si è poi eh diciamo eh confermato anche nelle nostre iconografie più classiche attraverso i secoli che hanno connotato il nostro Stato per l'eccellenza in campo pittorico dal sedicesimo a seguire vedete i terremoti sono sempre indicati proprio come causa di danni strutturali eh questo poi diciamo in qualche modo si eh conferme si è anche eh rafforzata questa eh visione questa intuizione questa sensazione che poi diventa una percepire comune con le immagini con le immagini documentate anche eh dalle riprese televisive dei terremoti più recenti queste sono le drammatiche immagini del crollo delle volte eh dipinte dal Cimabue appunto alla Basilica Superiore di Assisi che erano state in un certo senso no anticipato come evento da pitture della Basilica Inferiore che eh diciamo riprendevano proprio già crolli avvenuti in passato nella stessa eh Basilica pensate che il primo eh diciamo artista lo potremmo definire così quindi il primo poeta che eh fissò la sua attenzione invece su quanto il terremoto potesse produrre sul territorio fu proprio Dante Ligieri che eh diciamo cita appunto come un terremoto avrebbe potuto innescare una frana siamo in presenza di una prima diciamo intuizione eh da un punto di vista culturale di una relazione che ci può essere tra un evento sismico e dei cambiamenti o degli effetti prodotti sul territorio questa è una consapevolezza che poi in realtà si è andata acquisendo nella storia della nostro territorio tanto che noi vantiamo eh proprio come eh diciamo italiani la produzione della prima carta di inventario ovvero di censimento di fenomeni diciamo indotti quelli che chiamiamo sismo indotti dal terremoto delle Calabrie che è stata in realtà una sequenza sismica durata più di un anno iniziata nel febbraio del 1783 in questi stessi giorni 5 febbraio quindi un'altra memoria che ricorre seppure non parliamo di un cinquantenario e eh il re di Napoli all'epoca mandò una commissione un comitato di eh ricercatori di tecnici a rilevare questi effetti e produrre queste cartografie poi eh si è andato avanti appunto dal 1783 le cronache si sono succedute poi alle notizie giornalistiche fino ad arrivare ai nostri tempi addirittura ai blog a distanza di pochi minuti la maggior parte delle testimonianze fotografiche ma anche eh diciamo di effetti avvenuti eh sul territorio e non mi riferisco quindi soltanto al danno sul eh tessuto edilizio sono state eh riportate da questi social prima ancora che poi i tecnici o comunque le persone diciamo autorizzate potessero vederle e visionarle nei giorni successivi direttamente eh il nostro territorio è fortemente marcato e caratterizzato dalla sismoinduzione ci sono abitati come quello di Calitri che qui eh vi rappresento in queste foto d'epoca appunto prese il ventitré novembre del mil novecentottanta che convivono da eh praticamente secoli con una frana che si riattiva in occasione di importanti terremoti questa è stata la sua ultima riattivazione storica avvenuta proprio il ventitré novembre cioè durante il sismo Erpino allora cerchiamo di capire l'importanza e l'impatto che hanno queste sismoinduzioni sul territorio ma anche sulle infrastrutture e in questo senso viene una considerazione molto interessante che in realtà nasce da un report che fu pubblicato all'inizio degli anni duemila da Bir de Bomber che eh le frane e gli effetti sismoindotti in senso stretto quindi liquefazioni e anche tsunami di cui abbiamo in parte sentito parlare precedentemente da eh da Amato eh hanno un'inferenza un impatto molto più importante su infrastrutture che si distribuiscono sul territorio lì dove invece lo scuotimento sismico in senso proprio interviene più eh decisamente più spiccatamente sulle strutture edilizie ecco che allora vediamo riagganciandomi un po' a quello che diceva prima Paolo Clemente che se la risposta sismica locale diventa un contributo della geologia soprattutto alla comprensione dell'azione sismica che va sugli edifici l'analisi di scenario e di sismo induzione diventa invece un strumento fondamentale proprio per la salvaguardia delle infrastrutture e delle opere di interconnessione anche strategica sul nostro territorio e in questo caso penso per esempio anche alle CLE e quindi ai eh diciamo gli interventi post eh diciamo che che fanno parte della delle delle attività microzonative quindi di studio di microzonazione sismica che sono proprio volte anche a individuare e a proteggere infrastrutture di interconnessione di edifici o di sistemi strategici sul territorio gli eventi sismondotti possono diventare dei killer qui vediamo eh una immagine eh iconica della frana di Las Colinas avvenuta durante il terremoto di El Salvador del 2001 che produsse quattrocento morti in pochissimi secondi distruggendo come vedete un intero villaggio di minatori allora cerchiamo di entrare in quest'ottica l'ottica del cosiddetto multi hazard cioè di una concatenazione di eventi innescati da un evento principale e indipendente dagli altri che è appunto il terremoto se immaginiamo quindi una sismogenesi e la propagazione quindi di onde sismiche verso la superficie della crosta terrestre l'interazione si può manifestare appunto con l'induzione di fenomeni che a catena ne possono scatenare altri per esempio una frana può produrre uno tsunami questo non è eh del non è assolutamente raro anzi la nostra eh storia ne ricorda eh un evento clamoroso che è quello appunto della frana innescata al terremoto del 1783 eh al monte in corrispense del monte Paci che produsse lo tsunami eh della eh stretto di Messina che poi uccise fece eh più di mille e cinquecento mittime eh soltanto nell'abitato di Scilla allora cerchiamo eh di riflettere su questa prospettiva eh anche in questo caso mi eh rubo una frase di Thomas Edison in questo caso la nostra più grande debolezza sta nel rinunciare sicuramente il modo più sicuro per riuscire è sempre provarci ancora una volta naturalmente di fronte al disastro di fronte alla perdita completa di un'identità non soltanto territoriale ma anche culturale spesso la tentazione dell'abbandono no? E questo eh in un certo senso stigmatizzato anche a livello artistico se pensiamo quanto è avvenuto a Ghibellina appunto dal già citato durante il già citato remoto del Belice o Belice oggi ho imparato più adeguatamente detto dobbiamo invece essere mossi verso una eh diciamo uno spirito ricostruttivo quindi verso quella che si chiama una resilienza allora cerchiamo di capire come la storia ci aiuta in questo e per quanto riguarda gli effetti sismo indotti concatenando eh le notizie i documenti gli archivi già esistenti nel duemila e dodici è nato un progetto un progetto che è stato promosso dal Ceri che è appunto il progetto Cedit cioè il catalogo degli effetti deformativi al suolo indotti da forti terremoti che eh pensate affonda le sue radici in un'idea avuta nel millenovecentotantasette eh da eh diciamo Zecchi che eh produsse una prima carta di censimento di inventario di effetti sismo indotti aggiornata appunto al terremoto dell'ottanta eh avendo eh come scopo quello appunto di localizzarli ma anche in qualche modo di tipizzarli cioè di dargli una loro eh classificazione tipologica eh il Cedit ha riletto eh questa idea e naturalmente l'ha ampliata sia in termini di fonti documentali sia in termini di analisi tipologica a varie categorie di effetti quindi le frane la fratturazione superficiale la liquefazione e il surface faulting l'aggiornamento è completo diciamo che siamo eh adesso arrivati a censire gli ultimi effetti sismondotti mi riferisco al terremoto avvenuto ad Ischia appunto quello che citava precedentemente Antonio nel duemila e diciotto e quindi eh stiamo parlando di circa tre mila settecentonovantatré censiti eh venti effetti scusami censiti eh riferibile a cento settantadue terremoti storici che hanno colpito pensate ottocentotventiquattro comuni cioè sono circa il dieci per cento sul totale dei comuni italiani e praticamente diciannove regioni su venti l'unica come vedete dalla carta riportata a fianco che se ne in qualche modo diciamo che non è che non rientra in questa classifica è proprio la Sardegna eh allora il Cedit eh nasce e e si sviluppa poi con una piattaforma consultabile online eh su una piattaforma webgis per la quale però devo dirvi e ne approfitto anche perché negli ultimi giorni ho ricevuto molte eh segnalazioni e molte ovviamente richieste di chiarimento da parte di alcuni professionisti che noi l'abbiamo temporaneamente interrotta perché la stiamo rimandando in onda in una versione evoluta quindi dovete avere un po' di pazienza qualche mensilità per ristrutturare questa piattaforma qualunque informazione voi vogliate estrarre da questo catalogo potete averla direttamente dal gruppo dei miei collaboratori nonché da me in prima persona scrivendo all'indirizzo che vedete qui in sovraimpressione eh la consultazione Cedit prevede eh che ogni singolo terremoto possa essere eh diciamo cliccato linkato per dare delle informazioni sulla statistica di effetti sismo indotti ogni effetto a sua volta viene poi eh diciamo interrogato per restituire delle caratteristiche che sono tipiche dell'effetto stesso e quindi per avere la fonte bibliografica di eh riferimento per l'effetto censito eh come vedete eh la storia ha contribuita ad accumulare informazioni su queste episodicità eh i terremoti della sequenza duemilasexti duemilasexti hanno contribuito significativamente ad incrementare questa nostra conoscenza e veniamo proprio alle ricadute conoscitive da un punto di vista diciamo deduttivo di questo nostro inventario eh di effetti sismo indotti ehm allora eh vi faccio innanzitutto un uno zoom sulla eh sulla eh diciamo sul tema della giornata odierna allora vedete eh nella regione Lazio questi sono i punti che il Cedit ha censito come effetti sismo indotti nella provincia viterbese ve ne sono molto pochi eh il terremoto di Tuscani in particolare ne registra solo due questo naturalmente eh non vuol dire che non ve ne siano stati eh ma che ne sono stati documentati due e questo naturalmente fa riferimento alle fonti eh storiche ma anche diciamo alla tipologia di territorio alla sua densità abitativa o diciamo di infrastrutturazione eh le statistiche deducibili dal Cedit ci hanno consentito di ottenere delle curve di previsione degli effetti in funzione della magnitudo in termini espresse in termini di massima distanza di centrale attesa che come vedete per le frane e quella di destra per la liquefazione e quella di sinistra eh vanno in parte a scostarsi dalle curve dedotte su scala globale in modo ovviamente molto più generalista cioè senza tener conto di quelle che possono essere le peculiarità dei singoli territori eh in basso a sinistra vedete invece l'areogramma aggiornato con la percentuale di effetti sismondotti del nostro territorio come vedete la franosità da sola copre più del 50% degli effetti sismondotti seguita da fratturazione superficiale e da liquefazione ehm l'analisi di questi dati ha reso possibile anche una valutazione della probabilità di accadimento di certi tipi di effetto sismondotto in funzione dell'intensità macrosismica di sito per esempio vedete in basso a destra nell'istogramma eh puntata con quella curva nera tratteggiata la curva rosso bordò che rappresenta la curva delle frane allora per avere il 50% di probabilità di eccedenza sul nostro territorio per cui una frana si possa ritenere accadibile durante un terremoto dobbiamo avere un sisma di intensità macrosismica superiore a 7 tra 7 e 8 diciamo dal punto di vista eh appunto del grado macrosismico ma dell'intensità macrosismica un recentissimo prodotto che è stato pubblicato online ehm diciamo da poche settimane e che diciamo è in fase anche di approfondimento è la carta di suscettibilità la franosità sismondotta sul territorio nazionale che è stata ottenuta utilizzando una eh metodo di analisi per neural network quindi eh diciamo abbiamo utilizzato un sistema di neti di reti neurali quindi artificial neural network partendo dai dati del Cedit utilizzandoli sia per eh utilizzare diciamo costituire il dataset di training sia per costituire il dataset di validating sia per costituire il dataset di check quindi il è stato auto è stato sufficiente questo database per la sua numerosità e copertura spaziale a rendere possibile eh questo prodotto prodotto che come vedete nello specifico del Viterbese rileva una bassa probabilità di accadimento di frane sismo indotte questo è legato diciamo non solo alla storia dell'occorrenza ma alla tenere all'aver tenuto in conto di tutti i parametri eh sismologici geomorfologici e geolitologici che hanno eh portato a occorrenza di frane sismo indotte nel passato naturalmente l'addestramento di questa eh diciamo analisi è stata effettuata utilizzando le geolocalizzazioni di classe più elevata cioè le classi cinque e quattro che corrispondono appunto alla geolocalizzazione mediante gps o mediante segnalazione documentale comunque riferibile a un'area non ad un punto scusatemi con un errore inferiore al chilometro eh veniamo allora alla all'analisi di scenario cioè a cosa ci insegnano questi episodi la loro distribuzione la loro sul territorio e il loro accadimento storico proprio in termini di previsione di accadimento di futuri accadimenti allora diciamo in un certo senso come dice Stephen Hawking siamo noi a creare la storia con la nostra osservazione non è certo la storia a creare noi allora diciamo il belice eh ripatiamo questo termine ci ha insegnato proprio da questo punto di vista in modo iconico che abbandonare gettare la spugna e farsi in qualche modo travolgere dall'evento storico poi non ha eh in un certo senso portato sicuramente a un risultato di successo allora eh parliamo di uno dei terremoti eh più eh sicuramente importanti nella storia degli effetti sismo indotti sul nostro territorio che è il terremoto irpino del ventitré novembre dell'ottanta qui vedete il campo macrosismico e qui vedete eh la distribuzione degli effetti censita dal Cedit il pointer rosso e la posizione epicentrale abbiamo eh effettuato un'analisi su questa distribuzione geolocalizzando le sorgenti sismogeniche attribuite dal DIS cioè dal database delle sorgenti individuali italiane eh a questo evento e eh realizzando un transetto eh ortogonale all'elemento stesso eh attraverso quindi la eh diciamo eh dorsale appenninica da questo transetto proiettando la densità la distribuzione di effetti sismendotti è emersa una considerazione molto interessante cioè che la distribuzione degli effetti sismendotti è eh in qualche modo eh asimmetrica rispetto alla eh fall zone cioè alla eh posizione della dell'elemento tettonico nella fattispecie una numerosità molto più eh significativa si è osservata proprio nella zona di engine work che come ci spiegava eh Carlo Doioni all'inizio di questa eh giornata rappresenta proprio la zona di eh ribassamento del territorio dove appunto anche gli effetti di danneggiamento e la eh diciamo impronta digitale per usare il termine la fingerprint come si chiama adesso appunto legata all'immagine interferometrica risulta più definita eh veniamo ai terremoti più recenti Salvatore tre minuti sì qui siamo appunto nella sequenza sismica del duemila e sedici localizzate animale geodinamicamente molto complessa tra i fronti dei Sibillini appunto la piattaforma Laziale Abruzzese il dominio e il bacino della Laga e questo terremoto ci ha insegnato eh grazie a un rilievo di effetti il sismo indoppi condotto a poche ore dall'accadimento del terremoto di Amatrice che si è poi concluso di fatto a metà gennaio seguendo o meglio rincorrendo le varie scosse della sequenza ci ha insegnato qualcosa di molto importante che al di là del fatto che la distribuzione degli effetti possa essere legata alla Fingerprints diciamo dell'area eh ipocentrale esiste anche una stretta correlazione tra questi effetti e le eh la presenza di elementi geomorfologici nonché di forme antropiche come per esempio i tatti stradali l'inferenza di queste forme sulla distribuzione degli effetti è stata statisticamente provata utilizzando questo dataset costituito da oltre ottocento effetti e settecento effetti mediante un metodo statistico che è l'UEVO Evidence e diciamo e ne è risultata una uno schema concettuale di pericolosità più elevata in corrispondenza delle dei fondi valle a V con presenza di road cuts cioè di tagli legati alla viabilità antropica ultimo esempio che vi porto eh deriva dal terremoto di Monte Cilfone avvenuto appunto nel duemila e diciannove e questo terremoto ha fatto sì che si creasse uno scenario di franosità eh sismoindotta localizzato attorno all'epicentro cioè tra i comuni di Palata Guiglionese e Guardia Alfiera e eh diciamo la eh cosa interessante è stato che rispetto alla densità di frane presisma che vedete riportata nella fishnet in basso a destra la concentrazione di effetti sismoindotti è stata invece del tutto in indipendente dalla predisposizione morfologica antequem questo ci ha portato ad analizzare più a fondo la distribuzione di questi effetti e a notare che soprattutto le frane in terra si sono verificate a distanza molto maggiore dalla questione vicentrale rispetto a quella che si sarebbe dovuta attendere l'interpretazione in questo caso è data dal fatto che il terremoto è stato anticipato da un importante evento pluviometrico che ha diciamo scompaginato le carte della previsione della distribuzione di effetti modificando quindi l'attesa di scenato anche in questo caso diciamo la distribuzione degli effetti rispetto alla zona compressiva e la zona invece dilatante del meccanismo focale che è stata una trascorrenza sinistra in questa fattispecie rivela una asimmetria interessante sempre a favore della zona compressiva vado a concludere in tre punti cerco di mettere a fuoco il messaggio che vorrei lasciare in questa mia presentazione la consapevolezza degli effetti indotti da terremoti del passato può costituire una base da base per ricostruire scenari futuri di distribuzione e quindi di danni ad essi correlati i recenti terremoti ci hanno insegnato che la distribuzione degli effetti è strettamente connessa alla sismogenesi e non soltanto quindi alla distanza epicentrale come parametro geometrico diciamo un po' troppo grossolano e esiste una stretta correlazione tra le cause e gli effetti attraverso che cose tra il terremoto e gli effetti di prodotti attraverso fattori di diciamo predisposizione preparazione territoriale che sono dati sia da agenti naturali come le morfologie sia da agenti antropici come abbiamo visto il caso dei tagli stradali con questo io vi ringrazio e chiedo scusa se ho sforato di qualche minuto grazie Antonio per assolutamente sei il tempo perfetto grazie grazie a te bene meglio allora sì adesso Antonio non mi sembra che ci siano domande sì mi sembra niente sì puoi disattivare poi è andata no ancora no aspettate provo ad uscire non mi fa uscire dalla presentazione aspettate prova a disattivare il video c'è una domanda? ah eccolo qua ce l'ho sul lato eccolo qua scusate vai c'era una domanda in DR Antonio mi sembra sì ma anche adesso un'altra nella chat allora sempre Carlo che ne voleva fare una mi devo attivare Eugenio di Loreto dice che prende ci sono nel catalogo F questa la leggo forse IFI ah IFI sì sulla distribuzione di tanti in aria urbana sì prego riguardo alla microzonazione sismica in realtà esiste una diciamo così delle delle linee guida sulle frane sismo indotte eh fatte dal Dipartimento della Protezione Civile che non mi sembra siano state recepite in tutte le linee guida regionali in particolare nel Lazio non si richiede un'analisi della franosità sismo indotta ma genericamente eh le l'elenco delle frane sulla carta geologico eh tecnica di inizio questo fatto diciamo così può essere eh in qualche modo eh a detrimento della sicurezza oppure eh in qualche per altri versi favorisce la conservatività la prudenza allora grazie della domanda eh bisogna fare un chiarimento in realtà eh l'allegato tecnico all'ICMS che appunto a cui lei fa riferimento che eh diciamo si occupa della gestione della delle instabilità e quindi delle zone instabili tra cui rientrano anche le frane prevede tre livelli di eh restituzione dell'informazione che viaggiano praticamente con i tre livelli di MS il livello uno che è quello diciamo che prevede la sola eh definizione delle cosiddette zone di attenzione di fatto non è altro che una sovrapposizione dei cataloghi delle frane eh fornite appunto dal dall'IFI quindi eh dal servizio geologico mh e eh in aggiunta da eventuali cataloghi non facenti parte dell'IFI o anche rilevamento del singolo eh diciamo professionista tuttavia queste ZA devono essere sottoposte a una fase di screening eh tramite la quale si poi eh si riducono ad un sotto insieme che sono le zone di suscettibilità e questo screening deve essere fatto attraverso delle tecniche semi quantitative allora per quanto riguarda i lavori dell'ordinanza eh diciamo venuta a seguito degli eventi del 2016 2017 in particolare l'ordinanza 24 del maggio 2017 ehm quello che è stato richiesto era esclusivamente la produzione della mappatura delle ZA solo per due municipalità ed in forma eh diciamo sperimentale sono state effettuate le mappature delle ZS e sono rispettivamente la municipalità di Amatrice e la municipalità di Accumuli eh per quanto riguarda le ZR che sono invece vanno nella direzione di quello che chiedeva lei cioè della messa in sicurezza e quindi degli interventi di eh stabilizzazione o di eh diciamo ehm bonifica addirittura lì dove l'evento sia già avvenuto in maniera eh piuttosto eh dannosa e questo è rimesso a un terzo livello per il quale servono ulteriori indagini ulteriori approfondimenti le ZR sono un ulteriore sottinsieme delle ZS quindi eh diciamo in realtà non è una lacuna della regione Lazio ma è un iter che si è fermato ad un certo livello di approfondimento nella fattispecie a livello ZA per tutti i comuni eh da cui di ordinanza eh diciamo dell'ordinanza appunto del duemiladecciassette nonché alla eh diciamo ZS per due municipalità comunque l'iter previsto dal C dalla ICMS non non mi risulta e non è assolutamente come dire contraddetto da quelli che sono i DGR della regione Lazio la il livello di approfondimento dipende dal livello di microzonazione richiesto questo è un'altra domanda da Eugenio di Loreto se nel catalogo Cedit ci sono mappe o studi sulla distribuzione dei danni in aree urbane no il Cedit si limita al censimento di effetti sismo indotti per giunta uno dei lavori più onerosi che il team diciamo che eh collabora con me e che opera su questo catalogo fa è proprio quello di filtrare le informazioni storiche da quelli che possono essere invece effetti non indotti sul territorio ma effetti indotti diciamo magari da strutture che vengono tra virgolette confusi nelle fonti documentali come effetti sul territorio mi riferisco per esempio a strade che possono avere andare incontro a instabilità quindi o elementi portuali e via dire abbiamo di recente fatto l'aggiornamento degli effetti sismi indotti del terremoto il 1908 che è uscito sulle memorie descrittive della solidà geologica italiana è un'iniziativa appunto dell'ISPRA alla quale abbiamo preso parte a valle dello studio fatto da commerci e tal e uno dei più impegnativi lavori è stato proprio filtrare le fonti tenendo conto della possibile inferenza anche di effetti strutturali sul territorio bene grazie a tutti grazie professor Martino grazie a voi per tutte queste belle domande e questo suo intervento adesso tocca ad Antonio e quindi tocca a me presentarlo perché altrimenti avrebbe fatto un'autopresentazione allora Antonio Colombi sapete la maggior parte di voi lo conosce come collega che si occupa di pianificazione strategica di emergenze attività esercitativa all'interno della segreteria operativa della direzione dell'agenzia regionale di protezione civile in passato è stato anche libero professionista e ha avuto un'attività di responsabili per il programma regionale per rischio sismico e microzonazione tant'è appunto ne abbiamo parlato poc'anzi aiutato alla stesura ha partecipato alla stesura degli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica di diverse digne guide regionali per rischio sismico microzonazione e protezione civile è stato anche docente si è stato anche docente no Antonio durante il periodo credo una decina ad anni fa sia nell'università Roma 3 e sia attraverso la sapienza l'università della sapienza in materia di registrazione ambientale adesso è comunque docente permanente all'università nazionale di salto in argentina ed è tecnico esperto del meccanismo europeo di protezione civile e lascio a te la parola Antonio naturalmente anche per te vale i tre minuti che a tre minuti dalla fine ok grazie Giuseppina io farò una presentazione con un'ottica molto generale però incentrata alla provincia di Viterbo le prime diapositive saranno però molto concettuali e la prima proprio non a caso parla della memoria vediamo proprio la mancanza di memoria l'assenza di memoria che è un fattore fondamentale per la non riduzione del rischio qualunque tipo di rischio in questo caso quello sismico e vediamo per esempio le diverse situazioni che esistono per esempio nel nostro paese dove noi ci ricordiamo dell'evento solamente quando l'evento accade di nuovo questo è il caso per esempio del terremoto di Amatrice che già nel 1639 aveva colpito la cittadina nello stesso identico modo e una relazione fatta al re di Borbone dice praticamente le cose che poi noi ci siamo trovati quelle mattine appena arrivati ad Amatrice ad Accumoli e via dicendo mentre la memoria è forte ed è quotidiana per esempio in Giappone dove a seguito del terremoto del gennaio del 95 a Cobbe ogni anno nel periodo natalizio fino a proprio alla giornata del 17 vengono allestite le cosiddette Cobbe luminarie in tutta la città e soprattutto nella piazza del municipio viene messa questa grande data questa illuminata questa grande data 1.17 proprio in maniera tale che le persone che hanno vissuto quell'evento ricordino ma soprattutto le persone che sono nate dopo ricordano che si trovano in una zona dove frequentemente si ha un terremoto quindi questo è già il primo aspetto il cambiamento di cultura che noi dobbiamo comunque fare riguardo alla mancanza di memoria o assenza di memoria l'altra cosa che dobbiamo però capire soprattutto dal punto di vista della fase emergenziale che è un disastro naturale è una situazione in completa continua evoluzione che cambia di magnitudo dell'evento di urgenze di impatto ma cambia soprattutto nelle risposte che noi dobbiamo dare alla popolazione e ai soccorritori che sono i due cartini dell'emergenza chi deve essere soccorso e chi deve soccorrere e queste dinamiche aumentano nella loro complessità in base soprattutto alle carenze di prevenzione che noi abbiamo e l'incertezza della condivisione del coordinamento di queste informazioni aumenta durante le prime fasi emergenziali proprio quando aumenta la crucialità della capacità a comunicare e a condividere informazioni sia alla popolazione e sia ai soccorritori e tutto questo purtroppo accade perché non siamo stati incapaci prima di parlare in modo chiare prevenire in modo che il disastro che noi stiamo gestendo assumisse un valore minore rispetto a quello che invece dobbiamo affrontare adesso e quindi questo è un altro aspetto culturale ma spesso noi giustamente riteniamo i territori più vulnerabili quelli che hanno le paricolostali maggiori pericolosità uno si trova in una zona ad alta pericolosità sismica dice benissimo il mio territorio è vulnerabile purtroppo soprattutto con l'esperienza i territori più venabili sono quelli che non hanno una coscienza preventiva per esempio dei propri rischi assenza di una mappatura tematica adeguata o soprattutto magari l'informazione che esiste questa mappatura tematica alla popolazione e agli operatori delle proprie capacità istituzionali assenza dei piani di protezione civile o in alcuni casi anzi molto più dei piani di protezione civile che esistono ma non esiste un vero modello di risposta all'emergenza e infine la poca conoscenza delle proprie risorse umani e materiali sul territorio e questo è fondamentale proprio per la pronta risposta all'emergenza da quando io ho iniziato a lavorare in protezione civile considero la formula del rischio che tutti quanti conosciamo basata sui tre sui tre parametri quelli che ricordiamo vulnerabilità esposizione ma assolutamente deve essere inserito il quarto parametro che è la resilienza noi più riusciamo ad essere resilienti e logicamente diminuiamo questo rischio che però dobbiamo innanzitutto far capire a tutti quanti che il rischio in questo caso rischio sismico non è mai uguale a zero perché noi avremo un rischio residuale che è quello che otterremo quando faremo delle azioni di prevenzione di protezione e di resilienza che mitigino al massimo l'eventuale rischio però dobbiamo anche capire purtroppo e questo non lo capiamo che il rischio residuale è spesso una chimera nel senso che noi non abbiamo tutte le risorse economiche materiali umane per poter ridurre veramente al minimo e quindi dobbiamo imparare a far entrare nella nostra accezione il rischio accettabile cioè che è quel rischio oltre il quale io non posso diminuire perché non ho tutte le risorse all'infinito a disposizione e questo ci porta innanzitutto ad avere proprio uno sviluppo concettuale in quello che succede in Italia noi abbiamo una valutazione del rischio cioè il mondo della ricerca che ha fatto dei passi in avanti e ci ha fornito noi diciamo operatori soprattutto dell'emergenza ma anche operatori della parte di gestione del rischio delle informazioni importantissime e abbiamo tutto sommato una comunicazione del rischio cioè un'informazione che è a un buon livello quello che ancora dobbiamo imparare come popolazione è essere consapevoli di trovarci in una fase di rischio e ci dobbiamo lavorare ancora di più perché questi tre sviluppi porterebbero poi ad avere una cultura della prevenzione quindi un metodo per affrontare una prevenzione che ancora purtroppo è basso in Italia e porterebbe poi di conseguenza a una politica di prevenzione quindi a una gestione del rischio che anch'esso purtroppo riflette una bassa livello culturale e ci porterebbe poi ad avere una maggiore chiarezza se io ho una politica una chiara politica di prevenzione capisco anche qual è il mio rischio accettabile e quindi di conseguenza potrei limitare il mio rischio facendo un'ottimizzazione delle risorse ma avere una scelta di una prevenzione di rischio quindi avere una chiara strategia di azione e fondamentalmente portare alla condivisione delle scelte quindi con una partecipazione che è quella che manca molto diceva all'inizio il Vezio proprio il codice porta ha indicato la cittadinanza attiva che non è più soggetto da essere soccorso ma è soggetto che deve partecipare già dall'inizio e alla fine arrivare a una politica delle scelte quindi a una governance che ci permetta di mitigare il rischio tutto questo come vedete purtroppo ancora manca perché paghiamo errori e ritardi generali allora entro in particolare nella provincia del Viterbese dove come abbiamo visto nelle varie presentazioni che ci sono state è affetta da terremoti storici nell'alto Viterbese zona di Bagno Reggio Acquavendente e poi il famoso terremoto di cui stiamo parlando oggi il terremoto del 71 ma anche sismicità e frane anche tsunami nel 1695 a seguito del terremoto di Bagno Reggio ci fu uno tsunami all'interno del lago di Bolsena il grosso problema anche di carattere politico amministrativo sui rapporti fra la sismicità e la geotermia le potenziali aree soggette a tsunami è un elemento poco conosciuto ma come vi diceva Alessandro Amato esiste e lo stiamo studiando e infine il rischio nucleare indotto quindi come vedete è una provincia che da questo punto di vista dai rapporti fra sismicità e le altre cose non si fa mancare e allora vediamo punto per punto partiamo logicamente dalla mappa di pericolosità sismica nazionale dove vediamo appunto che il Viterpese ha una situazione diciamo di media sismicità media bassa sismicità ma su uno studio che abbiamo fatto fare all'Enea per una rivalutazione delle intensità massime del MCS vediamo che il comune di Uscania Bagnoreggio Lubriano hanno delle intensità massime anche di 8.5 e comunque l'intensità massima che può essere data ai vari comuni del territorio del Viterpese è di 6 questo ci ha portato anche a produrre una mappa di pericolosità sismica regionale combinata con effetti morfologici e geologici in cui si vede che appunto c'è questa situazione del Viterpese che può risentire degli effetti combinati rispetto alla pericolosità di base e poi la regione ha fatto le sue scelte di classificazione dovute alla legge derega Bassanini che permette alle regioni di riclassificare dal punto di vista sismico il territorio e vedete che partendo dai decreti dei lavori pubblici dell'84 in cui solamente 5 comuni del Viterpese erano classificati sismici e ben 55 quindi la totalità erano non classificati con l'ordinanza 32-74 si è passati a classificare 54 comuni in terza categoria in zona 3 rimasto un solo comune che è molto alto di Castro per ovvie ragioni zona 4 e infine la riglassificazione che abbiamo fatto noi come regione Lazio prima nel 2003 poi nel 2009 ha portato all'eliminazione di comuni nella zona 4 e a un grosso incremento dei comuni in zona 2 e questo si vede anche dalla mappa dalla variazione di zona sismica a livello regionale dove vediamo che il Viterpese per quello che riguarda la regione è stato considerato un'area in cui si doveva incrementare la parte di declassificazione sismica e di contro la regione ha fatto anche una scelta che non era facile cioè quella che in alcune zone della pianura pontina è stato declassificato si è avuto un decremento questo ha portato a una classificazione sismica per la provincia di Viterbo che come vedete permette di avere tutta la zona che dell'alto Viterpese della zona della Tuscia in generale che è in zona sismica 2B perché noi abbiamo fatto anche delle sottozone sismiche mentre la zona del litorale e la zona a confine con la provincia di Roma è in zona sismica 3 dal punto di vista delle azioni invece strutturali che sono state fatte negli anni io ero responsabile dal 2004 fino al 2012 del programma del regionale su rischio sismico e delle verifiche sismiche che dove erano fatte su strutture strategiche rilevanti a fine protezione civile che ricordo che sono ancora un obbligo a carico del proprietario delle 1078 verifiche sismiche finanziate dalla regione Lazio soltanto 21 verifiche quindi il 2% ha riguardato la provincia gli edifici della provincia di Viterbo però devo ricordare che all'epoca quando si è iniziato le verifiche sismiche riguardavano principalmente soltanto le zone sismiche 1 e 2 quindi all'incirca era soltanto 39 comuni su 60 che potevano richiedere però proprio sulla base della libertà di richiesta cioè non era la regione che indicava su quali zone dove erano stati fatte le verifiche ma sì erano i comuni a dover richiedere il finanziamento della verifica e soltanto 5 comuni su 39 hanno fatto richiesta quindi Valentano Accovendente Celleno e vediamo per esempio che manca Tuscania manca Bagno Reggio dove probabilmente questi comuni ma tutti i comuni anche dal capoluogo di terbo una scuola un comune un museo una biblioteca una caserma cioè tutti gli edifici strategici rilevanti perlomeno uno di proprietà comunale c'era eppure abbiamo avuto una poca richiesta dei 102 interventi del regolamento e miglioramento sismico finanziati a seguito proprio di questo programma delle verifiche sismiche soltanto un edificio è stato migliorato nel comune di Celleno in particolare il municipio quindi è logico che questa sia l'aspetto della richiesta di finanziamento per le verifiche sia gli interventi adeguamento in qualche maniera ricalcano anche la pericolosità sismica nella zona del Fusinate e del Reatino probabilmente le richieste sono state maggiori o nella zona anche della provincia di Roma per quanto riguarda gli studi di microzonazione sismica voglio ringraziare Marco Incocciati per l'aiuto e anche i colleghi della difesa del suolo vediamo che la provincia di Viterbo sta bene nel senso che a parte un comune che è ancora senza studio cioè fabbrica di Roma gli altri comuni sono o con studi già approvati o con studi in aggiornamento nel senso che è stato approvato un primo livello di microzonazione sismica poi i comuni hanno chiesto di aggiornarlo secondo i nuovi standard soprattutto cartografici per cui diciamo che su 60 comuni 59 comuni hanno perlomeno il livello 1 di microzonazione sismica diverso invece è il fatto della CLE in quanto della condizione di emergenza in quanto questa è venuta dopo quindi paga un po' lo scotto del ritardo e vediamo che solo 5 comuni hanno approvato anche la CLE 33 comuni sono in fase di lavorazione e 21 comuni non hanno finanziato la CLE rimane sempre il gruppo purtroppo di fabbrica di loro per quanto riguarda invece l'aspetto dei rapporti fra geologia fra sismicità e geodermia beh questo è un aspetto un problema di carattere anche politico amministrativo per cui non entrerò in questi aspetti però senza dubbio io credo che non non si deve assolutamente prendere in maniera radicale la propria idea cioè non si può pensare che assolutamente la micro sismicità che hanno fatto vedere Alessandra Amato e Andrea Dertugliani sia dovuta al 100% dall'estazione geotermica come dall'altra parte non si può dire che assolutamente l'estazione geotermica non produce effetti di micro sismicità comunque il quadro nella zona dell'alto Viterbese vedete che ci sono ormai nove nove permessi di ricerca che stanno sono i blocchi di partenza che ovviamente si trovano in tutte le zone ma soprattutto ce ne sono altri che già sono partiti e fra questi per esempio quello che diciamo determina maggiormente dei problemi fra amministratori di popolazione e proprietari dei permessi di ricerca è senza dubbio quello di Torralfina e Castelgiorgio che sono dei progetti pilota per i quali anche l'INGV è stato chiamato per svolgere dell'attività di monitoraggio geochimico sismico e geodetico nell'area di progetto ci sono state delle sequenze sismiche nel 2016 ma anche nel 2020 che hanno portato diversi sindaci dell'area del Viterbese ma anche della parte Umbra a fare una una mozione una nota ai presidenti delle regioni e anche al presidente del consiglio ministri e al direttore del capo dipartimento di protezione civile per la paura che la popolazione ha avuto senza dubbio i fattori che possono interessare la sismicità indotta dall'estrazione possono essere per spostamento contrazione volometrica dovuta all'estrazione ma anche termici o chimici quindi il problema non è semplice né da una parte né dall'altra e penso che dovrà essere oggetto di una visione generale ma con indicazioni terze come può essere per esempio quello del DNCQ poi veniamo alla parte del maremoto come ha detto Alessandro Amato c'è dal 2017 questo centro all'elta terremoti noi come regione stiamo lavorando però per la prevenzione sul rischio maremoto e sulla base delle mappe nazionali di inondabilità per rischio tsunami che ha emanato l'ISPRA secondo due livelli advisory che è diciamo il codice arancione e watch che è il codice più gravoso quello rosso abbiamo fatto sorrapporre ai due comuni della provincia di Viterbo queste mappe di inondabilità con le loro scelte progettuali sia a carattere urbanistico ma anche a carattere di proiezione civile quindi questo è il caso per esempio di pesce romana nella zona di Montanto dove vedete un'eventuale allerta per tsunami che ricordo non è detto che deve avvenire di fronte alle coste laziali ma può tranquillamente avvenire anzi probabilmente potrebbe avvenire nella zona per esempio delle Olie o anche nella zona del Mar Ligure a nord determinerebbe quindi scattare un'allerta tsunami da parte del sistema di allertamento per i marimoti in Italia e quindi vedete questa è la fascia che inonderebbe per un'allerta di tipo advisory e questa per la stessa area per il watch quindi vedete come comunque è importante cercare di capire prevedere tutto un sistema di allertamento un sistema di eventuale evacuazione che può essere verticale o orizzontale questo lo vediamo per Montalto di Castro Marina in cui vedete che anche il livello advisory quindi quello più debole già inonda una piccola parte del centro abitato ma se passiamo poi al watch all'erta watch logicamente questo va a produrre delle gravità maggiori sul territorio e infine Tarquinia il livello di Tarquinia già con un advisory in parte quasi la metà del livello di Tarquinia viene coperto da non dato dall'evento da un evento tsunami e vedete come un'allerta watch invece totalmente il livello di Tarquinia viene inondato e vengono anche resi in idoni gli edifici strategici e gli avanti per la gestione di un evento emergenziale la regione Lazio il 25 maggio 2021 svolgerà un'esercitazione per posti di comando per i rischi o tsunami per i due comuni del litorale di Delvese insieme al dipartimento all'INGV all'ISPRA e alla prefettura come già abbiamo fatto nel 2019 per la provincia di Latina e nel 2020 per la provincia di Roma altro problema sono le aree potenzialmente idonee per il recovery dei rifiuti nucleari delle centrali dismesse in Italia e qui si aprirà un altro annoso problema proprio probabilmente proprio perché c'è questa carenza di condivisione delle scelte e di strategia della prevenzione per cui spesso vengono calate dall'alto delle scelte che i cittadini un po' perché proni al non nel mio mai nel mio giardino ma anche perché appunto si vengono poi calati dall'alto delle scelte che loro non sanno fino al secondo prima quindi questo sarà un altro problema importante che dovrà risolvere tutto il sistema il sistema di prevenzione infine vediamo l'aspetto proprio di protezione civile allora dal punto di vista dei piani di protezione civile la provincia di Viterbo sta bene nel senso che tutti i piani sono stati presentati e sono conformi alle linee guida regionali soltanto tre comuni hanno presentato il piano ma non sono ancora conformi alle linee guida e abbiamo però un caso anche qui come nella microzonazione sismica è un caso di un comune che non ha presentato il piano ora il fatto di non averlo presentato non significa che non ce l'abbia nel cassetto però è un obbligo presentarlo all'agenzia di protezione civile e alla prefettura e questo non è avvenuto mancano tre minuti dal punto di vista invece della gestione dell'intervento nel 2017 abbiamo fatto una delibera di giunta in cui abbiamo individuato le 13 aree che corrispondono ai centri operativi misti che vengono attivati in fase emergenziale dalla prefettura e che corrispondono invece ai centri operativi intercomunali che sono nelle stesse aree che vedete dovrebbero servire per in fase diciamo in pace emergenziale quindi nella vita quotidiana dovrebbero servire ai comuni che ne fanno parte di scambiare disseminare le informazioni in materia di protezione civile volontariate e via dicendo o anche fare attività di formazione in formazione secondo la nuova direttiva di pianificazione a seguito del codice di protezione civile del 2018 che sta per essere emanata è stato richiesto di fare una registrazione e soprattutto di diminuire e quindi noi abbiamo fatto questa nuova proposta in cui i 13 com verrebbero ridotti a 5 com che in grossa parte rappresentano anche la suddivisione dei distretti sanitari perché è forte il legame senza dubbio fra emergenza di protezione civile e soccorso sanitario durante un'emergenza quindi è giusto pure secondo noi che ci sia un linguaggio comune fra appunto la parte sanitaria che viene attivata da un'emergenza e la parte di emergenza di protezione civile dal punto di vista del volontariato la provincia di Viterbo ha come vedete circa 70 organizzazioni sulle 500 più dei 500 presenti nel Lazio e grossomodo sta in una situazione simile a quella della provincia di Frosinone pur avendo meno popolazione abbiamo un grosso problema nella provincia di Vieti e questo oltretutto si riflette anche a livello di volontari per provincia dove vediamo quelli operativi totali che sono quelli che noi possiamo fare possiamo avere per il pronto intervento su circa 10.000 volontari nel Lazio operativi in totale abbiamo più di 16.000 la provincia di Viterbo ne ha 1031 quindi si trova in media con le altre province del Lazio escludendo Roma che per un bacino di popolazione più alto ha una presenza di associazioni e quindi di volontari maggiore quindi diciamo che dal punto di vista della risposta al livello di volontariato la provincia di Viterbo sta bene io concludo questa mia presentazione e soprattutto concludo diciamo il convegno con una frase di Giuseppe Mercaldi conosciuta da tutti noi in cui diceva che già dopo il terremoto di Messina quindi nel 1908 la sismologia non sa dire quando ma sa dire dove avverranno terremoti rovinosi e sa pure graduare la sismicità delle diverse province italiane e quindi saprebbe indicare al governo dove sarebbero necessari i regolamenti di vizi più e dove meno rigorosi senza aspettare che prima il terremoto distrugga quei paesi che si vogliono salvare e qui capite come purtroppo noi abbiamo perso tantissimo tempo questa persona illuminata aveva già individuato in un certo senso lo sviluppo che abbiamo oggi ma nel 1908 con questa considerazione io quindi vi ringrazio ringrazio tutti quanti e vi ringrazio anche tutta l'agenzia di protezione civile che rappresento per l'attenzione grazie grazie Antonio vediamo se ci sono domande non mi sembra aspetta che scollegare la condivisione dello schermo Anto scusami se ti ricordi ci volevi far vedere qualche raccolta per Gigi non so se la vedete adesso no ti conviene togliere la condivisione e rientrare con la condivisione perché c'è l'ultima pagina anche della precedente aspetta togli la condivisione ok adesso la rimetti tanto sotto ce l'hai aperta la presentazione aspetta che devo interrompere di nuovo perché non ce l'avevo ancora aperta no ma non c'è più la condivisione schermo ah no 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 va bene ci sei tu un primo piano allora meglio condividere eh però a me non me la dà quindi ho un problema ti conviene ti conviene aprire la presentazione che vuoi far vedere poi condividere lo schermo esatto così e vai in presentazione questa era quella che avevo presentato che prima per emozione e per amicizia mi ero dimenticato di attivare eh aspettate che è dall'inizio ecco eh Gigi purtroppo se n'è andato nella notte del eh tra il 10 e l'11 di novembre di quest'anno eh è un modo per per ringraziarlo Gigi era partito da dalla paleontologia continuava ad essere un esperto in paleontologia ma poi aveva preso questo ramo della geofisica applicata soprattutto alla parte sismica eh di microzonazione e come ricordarlo nei suoi atteggiamenti che tutti quanti abbiamo visto eh anche molto eh da una parte dolci ma anche molto irriverenti dall'altra no era una persona eh veramente particolare e quindi penso che sia un modo carino per tutti noi che l'abbiamo conosciuto eh anche se non l'avevamo mai visto per esempio in giacca e cravatta però nelle sue varie eh situazioni amante del dell'aviazione eh di della socialità di di vivere bene quindi lo volevo ringraziare e penso che tutti quanti lo volevano salutare per l'ultima volta grazie grazie Antonio ok Tiziano grazie a te Antonio va bene ragazzi devo dire veramente interessantissima questa giornata è stata davvero interessante ho scritto che la presentazione sarà pubblicata sul canale YouTube dell'Ordine Geologie del Lazio e Giuseppina forse ci sai dire tu tra quanto insomma beh appena poi il nostro Marco provvederà a metterlo benissimo allora ringrazio ancora tutti i nostri prestigiosissimi relatori che sono intervenuti con i loro interventi davvero davvero coinvolgenti e Antonio ovviamente che ha avuto l'idea eh grazie a tutti buona giornata arrivederci a tutti arrivederci arrivederci grazie arrivederci a tutti